Ciao, ciao amici di Twitch, grandissimi, scusate il mega ritardozzo, ma credevo, credevo, che erano le 7 ragazzi, incredibile, incredibile. Allora, mega salutoni, stasera a Warzone, serata tra amici, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, senza assolutamente parolacce, perché noi ci divertiamo a Warzone, non diventiamo matti come quelli che sclerano e spaccano i joystick. Quindi saluto il mio amico Lord, ciao Lord, saluto l'amicissimo, addirittura, addirittura dalla Germania, ragazzi, che cosa vi porta Marco Drums Games, ciao Kevin, ciao, ciao mitica Giulia, ciao mitica Giulia, ciao mitica Giulia, e il grandissimo dissociatore per eccellenza, il mitico Pierpaolo, ciao Pippo, buonasera, buonasera a tutti. Bella ragazzi, bella ragazzi, ciao Giulia, ciao Giulia, ti saluto in live, per fortuna, che bello che sei qui con noi, ciao Giulia, ciao Kevin, ciao a tutti. Allora ragazzi, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti stasera, forse, forse, oltre agli amici, visto che vi siete collegati adesso, ripeto i nomi, Kevin, Ale, Lord, lui è Lord, non può essere Alessandro, è il grande Lord, è il Pierpaolo, è lui è Lord. Ecco, brava, brava Giulia, amore mio, amore, amore Lord, gioca con noi. Allora ragazzi, seratina Warzone, seratina tranquilla, grazie StreamElements per ricordare a tutti che ci sei anche tu, con noi, grande StreamElements. Allora ragazzi, io sto aspettando che finisca la partita e poi iniziamo a giocare. Guarda Giulia, è la mia priorità a farti sposare col mitico Lord, fallo giocare insieme a me a Warzone, vedi che prima o poi ti sposa, ok? Vai tranquilla, poi ti passo l'Iban, eh? Sì, sì, certo. E beh, tutte le cose a un posto. Ok. Ok. Ok, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, stasera siamo col mitico Kevin, il mitico Lord, il mitico Pierpaolo e il mitico Marco Drums Games. Sto aspettando che finisca la partitella. Ciao Kiri, amico, ciao mitico. Allora Kiri, è grandissimo Kiri. Stasera siamo col mitico Lord, l'hai sentito adesso, eh? Che ti ha detto ciao Kiri. Il Pierpaolo, il dissociatore. Ti dissocio il Pierpaolo? Sì, dissocio categoricamente. Categoricamente. È grandissimo dalla Germania, ragazzi, International Lobby. Kevin, ciao Kevin. Kevin, ciao Kevin. Ciao. Bella lì, ragazzi. Diremo questa cosa del ciao, penso, tutta sera, ragazzi. Diciamo ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Allora, che facciamo? Ok. Aggiornare partite a posto. Dai. Aggiornare partite a posto. Aggiornare partite a posto. Oh mio Dio, se almeno se avete già la lobby che mi invitate voi, ragazzi, perché rifar tutto da capo. Sì, sì, sì. Kevin, invita tu, va, che sei più bravo. Bravo, Kevin. Bravo. Che io qui. Ok. Kevin, faccio la faccosa, bravo. Per perdere. Ok. Kevin mi ha invitato a giocare a War in Zonis. Grande Kevin. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Eccolo Marco. Benvenuti, benvenuti. Eccomi qua. Scusi, la buttuccia non è fammi giocare. Sì, così va che faccio. 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 Sentite la grande Julie, ragazzi. La Julie, la moderatrice per eccellenza. La più brava che c'è. La Julie, sentite la sua vocina. Fatte lo senti. Grazie. Mitica, mitica. Mitica. Chi è che si è scapperato il naso in live? No, è niente. Che era il gatto mi è passato. È il gatto nasopolo. Esatto. Ok, ragazzi. Se in caso posso entrare a giocare a Warzone, fammi sapere. Assolutamente sì. Incominciamo così, dopo vediamo. Perché non so, Sharder, se la lobby si può fare da 5. No, non si può fare da 5. Io non sento la Julie. Come non la senti? Julie. Eccola qua, tiri. Tutto bene, tutto bene, grazie Julie. Tutto bene, grazie Julie. Ma scusate, ma la lobby, giocando a quella più grande, la mappa, lì, da 100 giocatori, non si può fare proprio. Ciao, amore mio, vieni, tata, che c'è anche la Julie. Più o meno, vai. In 5 no. Eh, Kiri, perché non è proprio di presente sopra il mitico lord. Passa, eh? Ciao, Carla, ti saluta la Julie. Vieni, amore mio. Se voi mi state dicendo qualcosa, magari qualcosa di tatticoso, io non capisco una mazza perché arriva e parla. E parla. È una bavara. Quindi io, già, già sono a, eh, come si dice? Ragazzi, ma di nuovo il carico? Non lo so, io non ho toccato niente. Rebirth è, sì, è quello di prima. Vai, Rebirth è buona, dai, è buona, è buona, è buona. Rebirth ritorna. Dai, poi facciamo l'altra, facciamone una delle Rebirth, Rebirth, Rebirth mi piace, è quella con, ciao, amore mio. Saluta i nostri amici di Twitch. Ciao. Ciao, Carla, ti dico. Eh, non è ancora, non è ancora loggato. Non è ancora loggato perché sta giocando il suo giochino e sta trascurando il suo marittino Marco Drums Games Channel. Eh, ha trovato non più follower. Allora, ragazzi, amici miei, eh, no, 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 giusto, giusto, giusto che sia così, un po' di sana pubblicità ci vuole anche sul mio canale. Allora, ragazzi, noi stiamo aspettando anche il mitico Kevin e poi Sharder che è qui con noi, che quando avanza un posto, comunque facciamo un po' un po', lo facciamo entrare anche lui, ok ragazzi? Facciamo, ci smistiamo un po'. Beh, adesso rimaniamo così ancora un paio di partitelli, dopo, intanto il mitico Sharder è dentro in live, quindi quando gli diciamo, soprattutto se mi aiutate tutti, è sposarmi con Lord. Io direi proprio di sì. Sei fregato Lord. Ah, Bragali. Ecco, ti dà un bel bacino la Bragali. Oh, mio Dio. Guarda come vanno, guarda come vanno. Oh, li ho fatti sbattare con la bomba. Bomba. Un movimento sensuale, bomba. La bomba. Dai, ragazzi, dai, ragazzi. E un altro è andato. Marco Drums Games colpisce ancora. Incredibile, serata pazzesca. Marco Drums gli ammazza a tutti. Grazie, grazie, grazie. Vai, che c'è un altro là. Bomba. Lancia grande. Oh, cosa sta succedendo qua? Qualcuno ha tirato una smolotov. Eccolo qui, eccolo qui. E vai, e vai che l'altro l'ho segato. E vai che l'ho segato. Grande. Oggi sono carico, ragazzi. Vai che un altro Drums l'ho segato. Ho finito le... Le munizioni, ragazzi. Mi hanno colpito. Mi hanno colpito. È andata partita. Sharder, se giochi è... Domani assolutamente sì, Sharder. Devo assolutamente... No! Devo assolutamente comprare le macchine. Sì, sì, Sharder. Alfa sta avanzando. Proteggetelo. Lo voglio. Anch'io voglio la BMW. Alfa sta avanzando. Proteggetelo. La BMW. Oh, my God. Ragazzi, c'è un cieco. Alfa si avvicina al secondo checkpoint. Un cieco, il cieco. L'hai massato? Grande. Grazie. Ma che è un'altra? Sì, che è un'altra? Vai che è un'altra? E' un'altra? Eh, c'era quello dietro. Marco scarica drummato. Grande. Abbiamo il titolo attore, ragazzi. Guarda l'altro trunzone. Aiuto, aiuto. Oioioioioioi la Giulia fa una parolaccia, ragazzi. Nooo. Caspiterino. Bassissimo. Grande. Grande Ch influencers. Ti sportello come un matto. Vama bene? Aiuto. santo piripillo io direi santo piripillo al cecchino più che altro ragazzi sapete che cosa mi stanno bombardando di quelle lancia di quelle granate quelle bianche mi chiamano non mi ricordo no quelle bianche quelle che t'accecano accecanti guarda lo stronzone marco ha segato lo stronzone porca ma cos'è che c'aveva quello la dimmi amore mio parla un po più alta ciao ciao amici è vero è vero è vero grande grande ma dai dopo fai una partita alla terra sai che ne frega per così per ridere scherzare noi siamo family friendly ridere scherziare io sono come da io sono sempre su marco brand games sempre sul cane a attenzione ragazzi il cambio se bloccato arrivate amici miei sono qui solo io sono visto no cecco cecco mangia patate mangia patate è un insulto che si può fare cecco mangia patate alfa e lanciate granate a tutto spiato ragazzi c'è un cecco nel fondo ragazzi marco drams è sul cannon vai da dietro penso di sì ma diventa virale non lo so non so che cosa cito ah bimbo minchia ok ah scusa allora non si può dire granata in campo oh bomba se vai dentro le partiti oh ragazzi ci sono stati uno e mezzo finisci la partita è un partitone mitico mi è venuta la tosse da un voglio di caffè arretrato si giroletta lancio una granata l'ammazzato drum sta dietro ragazzi ve li seguo tutti capiterina eh si baby allora ragazzi ragazzo della canzone ma tu hai sentito il mitico morris alfa sta avvanzando 20 secondi rimasti alfa è bloccato 10 secondi rimasti l'amazzato non c'è non c'è non c'è non c'è party allora tu è per caso grandissimo pierre hai mandato l'invito o qualcosa del genere al mitico moris no no puoi mandarglielo tu perché l'altra serie giocato né come di online tu il nemico ha localizzato un altro pezzo di satellite non dobbiamo farli arrivare giusto ragazzi alfa in movimento spazzate via la scorta nemica dopo volentrare che sharder si entra anche moris non c'è problema nel senso facciamo un po facciamo un po capito entrano 16 persone poi dopo per uscire al gioco facciamo uno ciao carla l'ho fatto è meglio r ICI dubbi lì è un dà nè 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 na nè 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 li te lancò una granata la classe e anche con la bomba un momento sensuale bomba si è perso che è di l'amo la granata è in testa la granata è in testa oh no vai vai indietro il camion bomba no stavo mettendo e lo scudo ciao amici benvenuti ragazzi mega serata warzone iscrivetevi al canale amici allora quando vado su io sulla torretta duro di mezzo mille di secondo è grande giuli bravissima io ho fatto un salto però non l'ho proprio visto 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 l'ho visto allora non mi ricordo più su che cos'è perché oggi ragazzi sono un po ancora indolentito il braccio che mi fa male e anche il braccio dove non ho fatto la vaccinazione se volevo sapere dopo te lo faccio sapere alfa indietreggia mi dai il telefono figurato tu c'è trono gigante come il lizardo alfa perde terreno non è vero alfa in movimento spazzate via la scorta nemica alfa in movimento mi hanno colpita mi hanno colpita mi hanno colpita lancio una granada mi sono fatto portare per l'aria da solo dai 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 ragazzo 60 secondi rimasti e possono anche non arrivare alla fine ciao bimax grandissimo ma sta avanzando guarda quanti siamo c'è l'amico pierpaolo dissociati pierpaolo e poi c'è l'amico lord e l'amico kevin dietro dietro raga dai dai forza forza sistema troppo online alfa ripieda e nel delicotto pressione vai raga dietro siamo sottotiro no no alfa testa si stanno sparando 20 secondi rimasti siamo sottotiro siamo sottotiro siamo sottotiro ti vedo ti vedo adesso ti vedo ti vedo ah grande forte alfa ripiega che siamo sottotiro oh mio dio dopo lo vedo dopo lo vedo che cosa abbiamo bloccato i carichi abbastanza a lungo da fare arrivare bella di max saluta la giuda grande massimo grande b no no vado alla partita ma che è ma sei scemo perché vado alla partita che è successo ma si è impalata la partita anche a me nooo hanno quittato hanno quittato abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto no 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 si è dissociata ma perché Twitch mi ha messo due volte lo stesso messaggio abbiamo vinto abbiamo vinto perché era importante era importantissimo quel messaggio va beh dai le facciamo un'altra perché tanto questi qua hanno barato e noi abbiamo vinto posso dire una cosa io adesso ancora dimmi dimmi ormai allora perché io non posso prendere la tua Joyce poi se ne mi si sente anche a me la voce guarda perché le favoreggeri anche a meno credo bella partita grande Sharder hai ragione credo che Giulia ehm è perché il Playstation Network non permette di poter giocare con due Joystick contemporaneamente stasera no lei può se vuole eh stai zitto Kevin non c'è il Joystick stai zitto Kevin Kevin mannaggia stupatone amore fammi una promessa amore mio eh Penny Joystick mettiti a parlare ma che è meglio io che io voglio apparare stai facendo casino su una live di Marse Giulietta avete rifatto questa Giulietta ti canto la ti canto la canzoncina se stai tranquilla senti non c'è non c'è non c'è brava gi 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 ok così stai calmo solo un po' fa troppo casino eh non l'ho fatta partire io mitico Pierpaolo non so ciao amici ciao amici di twitch ma eh perchè non ti piace questa? eh no facevamo Facevamo Rebirth Ritorno Rebirth Ritorno, dai, la prossima, ok? Sdrumiamoli stavolta, sdrumiamoli per Paolo Forza, ok? Sdrumiamoli, ragazzi, li massacriamo Ma non solo nel gioco, eh, raga Cioè, mi raccomando Eh, ci mancherebbe È l'ultimo e bozzo, arriva, moreno Bella, Giulie Allora Oh, lord Ogni volta che Giulie fa casino in live Io gli canto la canzoncina così sta calmo a dieci minuti, ok? Mi dico in arrivo nell'area Mi conviene fare un concerto di due ore allora Dai, dai, bravissima, Giulie, grandissima Allora, ragazzi, parliamo seriamente Vi mando il mio i-band Tutto pronto La zona di guerra Mi aspetta Sto cantando, lo fai in cazzo Ah, dici il contrario? No, dai Allora, ragazzi, prima di iniziare avvicinatemi Dai Il nemico ha localizzato un altro pezzo di satellite Non possiamo permettergli di raggiungerlo Prima che arrivino i nostri rinforzi Dove sei? Mi ha bisogno Ok Alfa in movimento Marco, un certo di da Nicola si è abbonato, eh Grande Grazie, Nicola Davvero Si è abbonato, amore mio Ringraziamolo Grazie, Nicola Grandissimo Sei un mito Scrivi, scrivi Non ti neanche visto scrivere Grandissimo Dai, che ti saluto Vai che hai dato Liban, allora, adesso Ah, ah, ah Il grandissimo Nicola Senta sempre dentro Grandissimo Nicola, davvero Grazie, bello Miticissima Eccolo qui Grandezza Oh, adesso si che sono contento Ragazzi, dai Possiamo chiudere la live È stata bella Ciao a tutti Ah, ah, ah Alfa indietreggia Ah, ah, ah C'era dell'obbano il mio compleanno Ah, ah, ah Come va? Eh, no, sei un grande Nicola Davvero, grazie Allora, ragazzi Tutti qua Sono forti Sono veramente forti Perché ci stanno tipo Mattacando, eh Tutto bene Nicola Ci hanno fatto il vaccino Terza roba E sono un po' Da due giorni Mega malato Grave Quasi da ricovero E non c'era Però fa parte quello Alfa sta avanzando Fermatelo Dove vai Giulio? Vai a prendere Vai a prendere i popi cor Lancia una granata Alfa sta avanzando Fermatelo Ok, vai Cosa devo fare? Vieni premuto quadrato Ok, fatto Grande Sistema troppi online Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Un po' di Warzone Inveceziamoci tra amici Grande, grande Nicola Davvero, davvero Grandissimo Allora io vi ricordo Domani che andiamo Su il titico Forza Ah, frotterella Sul titico GT7 Non è più bloccato Il cuore di prendere la vazzata Vi aspetto lì Perché dobbiamo fare Delle mega mega Marco Vintas Mi piace Kiri C'è il titolatore Da oggi Oggi sei il titolatore Il titolatore Potrebbe anche Potrebbe anche titolare Ok, il primo C'hanno praticamente Massacri Adesso possiamo anche Massacrare Inizia Marco Vintas Con la bomba Alfa sta avanzando Fermatelo Alfa perde terreno Eccolo che arriva E' morto E' morto E' morto Grande Sharder Allora Sharder rimani in chat Perché sicuramente poi facciamo il cambio con te Vogliamo proprio giocare con tutti ragazzi L'unica cosa che non si può fare È Marco Drums che non gioca Perché? Primo perché Marco Drums È il mega youtuber famosissimo E quindi non può saltare lui di giocare E seconda cosa è perché se no in live Non si vedrebbe un cavolino di Bruxelles Quindi non mi sembra tanto una cosa fattibile Giusto o sbaglio ragazzi? Oh si possono soffrire le piastre? Fermatelo Alfa in movimento Spazzate via la scorta nemica Dai Lancio il mercato Attenzione che arriva dall'alto Io vado indietro Lo porto indietro io Sul buccello Alfa ripiega Stanno andando indietro Aiuto Aiuto Anche Olivia si sta rabbiando Uno è andato Uno è andato Uno è andato E sono andato in chiotera Oh caspiterina Olivia Vai prenditi tu Prenditi tu Farebbe meglio di noi sicuro Sicuro Quello è sicuro Grande Grande ragazzi Grazie Stiamo facendo Delle cose incredibili Attenzione 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 Sicuramente c'è dentro uno Nel cassone raga Vai vai Tiriamo indietro Vai che tiriamo indietro Il carretto Il carretto Deve essere elettrico Per andare avanti e dietro Così E' digelo C'è passato qualcuno E' morto Come faccia Dai Hai coperto Terreno Dove 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 Dobbiamo Calmare un po' La giù So Che per questione Di copyright Penso che non si possa Cantare con le parole giuste Ogni volta E' una cosa diversa Vero Charger Sì, però hanno capito dove spaule Beh, lo so Questo è un È un disastro È un disastro, un disastro, un disastro E i ragazzi stanno venendo avanti Con il goncello, eh Quindi, Lady C'è dentro sicuramente uno sopra E c'è anche uno Sicuramente sdraiato dentro il cassone Perché ormai Personalizzate Personalizzate le fate Ti rispondo di sì Anche se non so che cosa ti sto dicendo Quindi se ti basta come sì Personalizzate le facciamo Ha scritto Charler E saranno gare personalizzate Non so Lancio una granata Questa è una posizione malenga Oh yei caramba Ok, uno è secco Uno è secco Quello davanti ragazzi No, 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 no Stai, 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 stai Occhi, gatto Alfa ripiega Teneteli sotto pressione Ragazzi, tutto Buttate bombe Lacrimogeni Coltellini Gatti e animali Cane e gatti Cane e gatti Non c'è più tutto quello Questo è tutto possibile Vai Alfa ripiega E l'abbiamo usato Vai 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 Dai amici Dai amici Grazie 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 Questa Inversione party Qui amo il mio microfono Fa parte di noi questo microfono Capita Copyright Mi dissocio Oh Copyright Se vi va possiamo provare Assolutamente sì Allora facci fare ancora un paio di partite alle insieme E poi cominciamo a fare i cambi Ok Sharder Se vuoi puoi entrare in party Perché credo che è il party Quello Amici di Twitch O comunque dopo Quando poi giochi Eh Alfa in movimento No 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 ti mando Liban Non c'è bisogno di scusarti Un bel millino Un bel millino Alfa sta avanzando Proteggete Eh giuli giuli Ti canto Am am Giulia E poi tu mi canti la canzone con le parole giuste Ma caspita non lo so Ma che ne vai 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 Ma che il guidatore Il tuo team ha bisogno di te Vai che questo lo fuggio di gaspidolo Alfa sta per raggiungere il primo checkbox Granata in campo Ma il G7 è la Ferrari Le buche È una pietra Eh quale Ferrari Quale Ferrari La G3 4 su 4 È tosterella È tosterella Nel senso che È un chiumco È un chiumco Cioè è una pietra Va bene Sto andando lì Banzo Sta ferma Sta fissa Eh vabbè 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 Ah Carpigelli Amore mio Continuate Grande amore mio Scusa se non ti ho ascoltato Stai 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 Adesso Giulia Ma è fissato Con quella canzone Lì Eh Siamo colpita Mi abbiamo colpita Granata in campo Ho capito Alpa si avvicina Al secondo checkpoint No Sono andato avanti Alpa ha raggiunto il checkpoint Sono sotto attacco Mezzo di satellite recuperato Alpa sta avanzando Dov'è il mio selezione? Sì, sì, sei bravissimo, giù lì! Vai, oh! Dai, raga, dai, raga! Ah, bravo che li marcati nei minuti! Dove, dove, che non lo vedo! Adesso ti spari in mezzo lì! Non lo vedo! Ah, spai in bombimento! Eh, ma di fianco ci sono quelli di qui, eh! Dai, fai anche tu! Alfa è bloccato e non può ammazzarla! Ah, bravo, bravo! Dopo che l'ho ammazzato, bravo! Si esce, l'ho ammazzato! C'è qualcuno qui, c'è qualcuno qui! Ah, ma sta qui sotto! Aspetta, amore! Eh, no, dov'è che è? Entra dentro camion! Non può ammazzare! Ah, ah! Caspita! Eh, sono le bombe, le cose! Ok! Io sto sdraiato sotto, ma perché camionano avanti? Sto blocco! Ah, alfa è bloccato! Non lo so, io sto sopra le bombe case! Non lo so, io sto sopra le bombe case! Non lo so, io sto sopra le bombe case! Non lo so, io non sento io, scusa con la molotov! Ma come? Pippo! Eh, a me piace questo gioco! Mi dissocio da lo soio! No! Dai, foco! Dai, foco! Che ti dissocii, è diverso! Ah, io ecco! Alfa è bloccato e non può avanzare! Ma non puoi dirlo tu! Dissociatemi i cecchini, per favore! Che ammacerro qui! Ragazzi, ma come mai il camioncinello non va avanti? Non va avanti, non va avanti, non va avanti, non va avanti! Perché forse ne servono due sopra le corrette! Ah, andato, andato, andato! No, no, andato! Vadoo! Mi son tenuto la bomba in mano, ragazzo, l'esploro! Ah, 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 ah! Due minuti all'arrivo dei rinforzi! Dai, 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 che ce la possiamo fare! Io me la sento che ce la possiamo fare, eh! Giù, bombe, manetta, ragazzi! perde aiuto suo alfa perde terreno vai dai che si va avanti dai ragazzi ad alfa avanti a posto si va a via davanti stanno sparando buona attacchi amigate il carico alfa perde terreno mamma mia l'ho massato a bruciapero è solo perché ce l'ho con loro ma sto facendo da un ucciso Giulia cosa pensi come stiamo andando stanno sparando ma come? ma io ti banno adesso ma come? marco drums games è il top e mi stai dicendo che io mi dissocio 45 secondi rimane sono cecchini però eh fammi vedere la luce sono cecchini non è che eh 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 grazie a cavolo grandi cominciamo bene bene adesso se vanno adesso abbiamo vinto basta bella lì dai famo rebirth aspetta facciamo rebirth e poi dopo facciamo entrare il sharder dai ok va bene che bella guardate che bella olivia mi metto devi rimanere in pratica ultima il quartetto qua ok ce la possiamo fare prova a dare un'occhiata adesso poi entra sharder guarda se c'è anche eh moris online pippo che se esco io mi toglie la la live sharder si poi fa un attimo facciamo un po' un po' per uno no no chi ti minaccia allora sei due a minacciare me e quanti possono essere dentro dalle mese marco e carla mi sta minacciando ragazzi fate i bravi fate i bravi che il live poi arriva la fbi a casa vostra eh minimo si no ma si può giocare solo in quattro umore mio adesso le facciamo un'altra poi il mitico sharder sarà difficile non sclerare eh sharder se scleri non ti faccio entrare nel party ah devo andare a prendere le cup no 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 qua siamo family friendly over the top così a cavolo over the top quindi in questo canale si può dire santo piripillo patata frizzante patata dolce patata bollente barbabietola barbabietola preparato faccia di fango no babbà fa troppo venire da mangiare eh no no purtroppo sharder è una regola è una regola mi punta guarda marco si ammazzasse e lui lo sa oh lancio una granata vedo cadaveri spintare già morti grazie 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 cazzo cazzo dai 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 impegno impegno vamonos ma le tue amiche sono dentro grandissimo per paolo grandi ok ok guys allora qui allora se non si vince devi dare di panagliere se non vince devi dare di panagliere ok giù se vinciamo e non vinciamo devi darmi no io vi do l'ibano a tutti ragazzi ciao se ne vai dai allora vediamo un attimo dov'è che è ah alla factory la factory quella viola perfetto ok quando ti butti dillo ritorno vai attenzione al gas andate nella zona sicura sopravvivete per fare schiari caduti e accumulate punti perché tornino più in fretta ok sta arrivando un nemico ok la priorità è uccidere tutti i nemici all'attacco c'è uno larga davanti dentro la struttura fai doppio tasco direzionale per marcarlo un nemico visto? ciao sharder ciao ok eccolo lì ecco la pistolina è un po' dura eh sì ciao bruschetta grandissimo grande bruschetta stasera serata a warzone serve una corazza col mitico kevin col mitico lord e col mitico pia paolo dissociatore viva mio grande bruschetta marco una mitragliatrice leggera serve una corazza oh 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 raga arrivano contatto di fronte ve l'ho dato eccolo dentro la casetta qua eh ragazzi state esagerando nello scrivere eh non do l'Iban a nessuno sono io che do l'Iban mio e voi mi dovete pagare no al contrario non ce l'abbiamo i popicord vai a cercare armi Marco eh sì eh lo so ma mi han detto di star qui niente occhi aperti colpi di piccolo calico segnalati ma che sto sparando due che ti hanno preso qualcosa lì raga non morire Marco no no sono qui però raga eh arrivano eh nasconditi nasconditi vai i rinforzi sono in arrivo perché se sei l'ultimo rimasto lo devi fa fuggire per far rientrare l'aria ok vai ehi quasi roba grappolo aia ci siete sì sto aterrando proprio adesso oi 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 raga occhio a mio dio c'è arrivato uno è arrivato sulla barca hai ragione brusche dovevo andare dove andare carlo è andata e non torna più allora sempre il mio joystick è un altro occasione allora ragazzi dove siete voi dove siete voi un po di armi o un tuo alleato è appena rientrato sta arrivando un nemico acqua domaggio con un po in alto movimento sensuale mi sono e mi sono battevuto e restano solo no io sono il tuo alleato è appena rientrato hyper escape ma sono vivo mi hanno detto che mori lì a mano tu non fare il bordello e dai? si ma non è ancora uscito eh dategli la cazzo ah e va bene però hyper escape eeeh ma che ridi sono morti eeeh suffaggia ahhh puoi tornare in azione ah no ma siamo vivi oh no tu devi vivi teeeeee il volo a tu no basta io fra 19 secondi entro ok anche ok si può non far avanti indietro 50 volte un tuo alleato è appena rientrato ci siete raga il lancio di armi brusche il problema che ce l'hai dietro nemico in arrivo nell'area hai visto visto non dovevo muovermi non dovevo muovermi questo è l'altra 2 no ragazzi morti molto bello 50 ma non lo so io ma non lo so io la mela il mitico grande lord voldamore allora ne facciamo un'altra col gruppo così dopo facciamo entrare il sharder ti va bene sharder se sei ancora qui facciamo due o tre con sharder e poi entra ancora facciamo così un po' giriamo viva bene ragazzi così giochiamo un po' tutti sì 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 dopo giochi con carla dai vai giù ti vuole giocare con te dimmi io esco sì entri dopo entro forse dopo sì perché vado su gt7 ok ascolta però rimani dentro in parti eh in live ok dai allora sharder vieni aspetta sta accendendo ora che accende sharder mingha dai fammone un'altra fammone un'altra dai facciamone un'altra fai un'altra che giù a poco dai che giù a poco dai ok ma chi è che è il comandante chi è il comandante io ehm Kevin no quindi dici tu chiude il gruppo il gruppo e nel caso lo rifai no puoi passare il no no aspetta puoi passare il comando ehm come sono figa con i canini ehm 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 dai sharder ne facciamo una ancora con il mitico Kevin così poi lui va un attimo e poi entri tu ok dai così almeno riusciamo a giocare e a fare le cose gnaw gnaw così vai con calma sharder una bella mela ragazzi mangiate la frutta che va bene eh una mela una mela adesso sì una mela di al giorno al giorno toglie mille euro dal conto no non è vero prova ecco non compra più le mere a molte mille euro la vado sono finiti i po' sconti sono finiti i po' sconti ahahahah non posso mica passare da mandorlatore a melatore eh niente di personale nemico in arrivo nell'area ma c'è un bambino ah caramba ma questo è la predo la pia eh può parlare in spagnol? no sì si no grande sharder questo brome è proprio un parolino eh buonasera ciao mitico fine dell'allenamento vediamo cosa avete imparato ok chardon adesso ti mando il il foglio da compilare per il copyright con noi no grazie un euro no no guarda ho da fare ho da fare ho visto adesso che è tardi devo andare via ciao ciao mi sento in twitch ragazze troppo pericoloso corretto a sistemare per far rientrare i compagni ottenete punti con le vostre azioni per farle tornare più in fretta la priorità è uccidere tutti i nemici all'attacco soldo sta parlando in questo momento ragazzi io sono su sul sul pennacolo sul pennone come si chiama qua morris mi ha appena inviato il come si chiama il pack ok allora adesso riesci a metterti in angolino e invitarlo dentro il nemico attivo che dai ok ragazzi arriva grandissimo sharder e il grandissimo morris a giocare con noi è dai dai amici dai 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 che facciamo un partito nel nemico in arrivo porto accordo sei forte non molto grande manue grande manue grandissimo benvenuto ok uno l'ho spiegato ragazzi ma che bravissimo dai avuto culo ma come ho avuto buttate fuori questo impostore quando pagato e forse uscita ragazzi sopra c'è l'era di dio è no ho finito colpi ma dai ma cosa faccio con sto pistoletta ciao guarda che vorrei saluta la gente ciao ragazzi ciao vici di twitch sta entrando il mitico morris e il mitico sharder io con la pistola c'è uno ok uno è andato ok dai dai no 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 si è rimesso lì non riesco a farlo in giro non c'è niente però ciccia ok quello è andato non puoi prendere il tripoglietti di no assolutamente no ma devi prendere un'altra arco siamo nella zona sicura vabbè sono in un angolino io però sto praticamente salvando il gruppo bravo marco sei l'eroe di tutti noi ma se sta a camperà dai dai il carro ti ho detto quattro volte che abbiamo cambiato modalità e non c'è è un altro modo di stato davvero il carnetto portava i gelati i gelati gelati a granata gelati a granata grazie grazie raga io ho finito tutto quello che potevo sparare devo salvare sono morti c'è una nuova zona sicura pure Kevin tuo nemico attivo che mi ha salvato la mia consegna camion corazzati guarda Marco lo destaccio fermo la sola maurizio un tuo alleato è appena rientrato allora è maurizio maschitto l'hai invitato Pierre? l'hai invitato Pierre? no non riesco aspetta che scoglievo un attimo arrivo subito ragazzi corazzati in ingresso nell'area attenzione puoi prendere altri proiettili? si ci sono no se posso comprare prendere i proiettili ma eccolo è arrivato? Paris? ti sto invitando dovrebbe essere già aperto nel party il tuo invito eh eccolo qua scusami te l'ho mandato adesso te l'ho mandato adesso si è niente da raggiungere grandissimo grande mori dai mori dai eccolo qui eccolo qui ciao mori ciao Marco ciao grandissimo a mori a mori dai che ragazzi si vince adesso che c'è mori e vai e vai ragazzi che bello beh siamo stati bravini i mori se devo dirti la verità guarda membro della squadra in rietro scusami allora mori adesso prendiamo la partita e ti facciamo entrare subito ok solo secondino ecco lo primo mi ha un contratto completato bravissimo bravissimo dai tu ti sei capace grande e il gas vi raggiunge avvicinati a me vieni vieni allora Giulia grande lo guardo da qui bravissimo beh è tuo papà ah sì grande grande quindi sto a giomodio favorizio ok stiamo dentro attenzione ai venti che nemico è sulle tue tracce fa attenzione ho una testina di cric proprio leggi oh scusami mi stavo a andare a cattivare cattivari c'è qualcuno dietro ciao mattonella grandissimo mattonella bravissimo ciao mattonella si c'è mattonella già qui ciao mattonella grande mandato per fare la richiesta nel party sì sì ma perché pensavo che non eravate in live perché non avevo marco non avevo visto marco si guarda sempre che marco trams è sempre la mia moglie o c'è uno cassa in avvicinamento nuova zona sicura dai non è possibile amore salvi presi delle stazioni di acquisto ritoccare una velocità impressionante ora come la pc possiamo farcela io me la sento dai dai raga dai raga poco poco orientamento come mai uno è morto qua i rinforzi sono in arrivo cascato 2 3 c'erano adesso sto show gli anni ammiati tutti invitarmi allora come si fa si dai prepara la classe che adesso finiamo non lo so quando ci posso riessere ma credo che lunedì no lunedì caspita che peccato vabbè quando ci sei e ma ogni lunedì non è ancora finì perché se se ci sei lunedì ok dai allora diciamo che lunedì facciamo tipo giorno fisso poi se non puoi una volta non è un problema capito moris nel senso ma io dalle 4 ci sono bravo perché così facciamo pubblicità ha capito io dalle otto fino alle quattro alle quattro si si fa uccidere l'ordine oddio 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 secondo me moris se tu dici alla tua maestra che riporti sono in arrivo fare una live con il mitico marco ragazzi e poi da me ti danno i giorni buoni e ti fanno uscire alle due ahahah ma una cosa moris va a scuola per i soldi gli i dallo appiccato ma roda non so non so il suo alleato è a FESTI che entrare ma caspita è il mio ma il mio il mio il mio il mio il mio i il mio il mio il mio il mio caspiterina ragazzi che cosa stringi non è grave allora c'è rumo nego volume generale sto mettendo 30 per cento i suoni e se no tu senti bene i suoni le nostre voci prova adesso giuri a 40 per cento che abbiamo finito dai mamma mia siamo un gioco gioco grande gioco gioco allora dai il mitico che vi non andava a giocare un po gt e mente dopo vero che evit tu sei dentro nella live giusto kevin marco se vuoi posso uscire io per un po come volete ragazzi dai non c'è problema tanto facciamo a giro facciamo a giro facciamo facciamo a giro dai dopo esce esce ale e entri tu tanto tu siete tutti collegati in live ok raga si 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 rimaniamo in live dai dai facciamo così a giro così giochiamo tutti però il discorso questo qui chi deve farla la lobby lo faccio io faccio io non la famosa vita e tu inviti a tutti dai bravo bravo fai la tumore che non mi fai non ti rimaniamo in live sì grande grande dissociatore di socia anche un po vai invita da parti bella gioco gioco grandissimo ok vediamo l'emalato ok bravissimo perché non mi vengono fuori vediamo se c'è ok unisce il gruppo ok perfetto poi adesso allora moris ale e sharder sharder è dentro e ale dentro giusto dopo il grandissimo dissociatore entra a posto di ale o vediamo sharder eh facciamo un po a giro grande kevin sei un mito kevin grazie mille se volete ditevelo che io esco certo no problema vediamo quando vuole entrare il mitico dissociatore tanto lui parla dalla chat vai aspetta avvio vedendo che cos'è non ci siamo non ci siamo? a me non mi arrivate nessun'invito ciao giugiuu moris è certo che c'è moris giugiu grande moris ti saluta giugiu no giugiu giugiu dovrebbe essere giovanni ah grandissimo allora allora grandissimo giovanni ma io lo chiamo giugiu perché poi non me li ricordo tutti i nomi allora vediamo un attimo sharder l'ho invitato adesso chi è arrivato? eh aspetta ciao ciao moris ciao fabrizio ti ha salutato a te ciao a tutti ciao fabrizio grandissimo chi chi si è iscritto? prima volta fabrizio iscriviti al canale di marcodransgames dai che facciamo delle mega live con moris sempre a lunedì al venerdì poi è variabile perché dipende se ci siamo o non ci siamo eh marcodrans c'è sempre comunque ah 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 allora ma anche su Ale 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 dove sei Ale? a me ancora è niente ma dove sei? e io sto sul gioco però non mi eravate nessuno in vivo moris ha detto giugiu è una ragazza mi pare eh si è giulia non sono giovanni esatto no è giulia grandissima giulia è una ragazza mi dico moris grande giulia scusa scusa non ho sbagliato vai 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 siamo un po' incasinati eh infatti ti ricordi l'altra volta che c'era la storia che diceva giulia Ale dove sei? si 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 giulia giulia bravo amore ma non so come ti chiami come ti chiami in game su ale drizzo86 aspetta amico mio mi sa che sono andato giù sulla z ale drizzo86 il primo della mia lista ah 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 poi viene moris poi c'è sharder poi c'è e poi c'è il mondo gente che non conosco che ho messo dentro così a caso allora la lobby la fa moris così sceglie lui le partite dai moris mi raccomando la prima ci scaldiamo un po' e le altre spacchiamo eh spacchiamo eh allora se hai perso la mano segui grandissimo moris che lui ci ammazza tutti e noi rimaniamo lì dietro a guardare ha v Guru cosa vuoi to� HRH Il disci pito? che sei andato pure dal horrific il soci ai rep perchè lei ci segue la live ci segue la live io sei andato a una macchina Allora shardve visto che è bravo andare in macchina lo facciamo girare tutta la mappa ok tu continua a girare, continua a girare scusate avete capito come fare giù giù, dobbiamo fare una questione di OBS che ce l'ho però dobbiamo fare delle prove che non so se riusciamo a farle domani o domenica è una questione di tempo, poi credo che riusciamo a ah grazie Fabrizio, riusciamo probabilmente a fare vedere anche il video di Morris perché io posso condividere il suo video immediatamente ma lo vedo solo io, non riesco poi a mandarlo per farlo vedere a voi in live quindi un po' di pazienza ancora ragazzi che ci stiamo un po' ambientando le cose le ho comprate, devo soltanto far funzionare perché va a scatto il video quindi se io lo metto adesso vedreste un video tutto scattoso, quindi non mi sembra una cosa molto piacevole anche per voi non è che non vogliamo farlo giù giù vai tranquilla ecco che parte Giulia col mangiare vabbè io non mi ricordo quello che ho mangiato stamattina ciao Chris mi devo ricordare Cristian, 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 Cristian è entrato Chris ragazzi grandissimo ah ciao Chris grande Chris grande ciao ho mangiato ho mangiato ciao con una parentesi di chiri ho mangiato dai dai cosa hai mangiato dai cosa hai mangiato i cetrioli ho mangiato i soffigini buoni e i bastongini di pesce bella lì bella lì mi sta vedendo venire tuo papà moris tuo papà mi ha mandato l'altra sera una foto incredibile incredibile di una pizza di due pizze che erano con tipo una mozzarella di buffalo sopra qualcosa di mamma mia meraviglioso meraviglioso mi ha fatto venire una voglia di mangiare pizza incredibile infatti poi mi fa perché siamo distanti ci abbiamo 1500 chilometri da ora ti mandavo la pizza tu papà mi hai detto a Chris e Fabrizio sono amici tuoi moris grande 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 ragazzi grandissimi grandissimi ragazzi c'è un altro Giovanni ciao Giovanni fatti vivo iscrivimi così almeno ti saluto in live e ti saluto anche grandissimo moris Giovanni oh e fatte pubblicità ragazzi a Marco Dranz Games e ai miti con moris che facciamo le live mega live insieme ok raga dai che portiamo migliaia migliaia di follower grande Giulia grazie migliaia di poi ragazzi sicuramente quest'anno si farà il Games Week a Milano e il grande moris viene su e il grande Alessandro verrà su e il grande dissociatore verrà su Kevin non lo so se arriva dalla Germania e beh dai un giorno te lo devi fare e prendi in treno e vieni su e ci vediamo tutti con tutti la maglietta di Marco Dranz Games dove andiamo dove andiamo sono da sopra dove andiamo sono da sopra ciao amici di twist benvenuti ragazzi io mi sono perso sono su un tetto scusatemi è sul tetto dove andiamo ah ok perfetto ah ma voi mi senterà ah voi io ho preso il cerchino quello mi ha dato lo bello bello ok ragazzi uno forte uno forte allora io ho un cecco eh ditevi cosa devo fare e io lo faccio ah eccolo qua charger e qui vai vai uno a terra uno a terra da Marco Dranz vai è dietro è dietro la cosa lo vedo lo vedo lo vedo vai 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 dai ragazzi l'animo a terra paolo grandissimo è dentro anche nel spazio arrivo arrivo aiuto sono dietro una terra vai tutti ce li siamo uccisi dai dai ma che c'è tipo la gli sparo mentre viene giù con paracadute vai che è andato ragazzi per me vengono su da qua terra ci siamo fatti tre uccisi c'è è vero tre due team bravo 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 Mori arriva uno radio dai gioco gioco aspetta eh attention please attention please arrivano sicuramente eh sono infidi infami avete colpi R quelli a 4 che c'è a morizioni io non c'è colpi medi questi qua io no medio calibro io non c'ho niente io sono una pistolina tagliuni che vuole quest'arma che fu chi ha un solo una pistolina di Mori e anche i nostri amici miei siamo tutti amici adesso grandi sono troppo forti i tuoi amici Mori grandi grandi grandissimi sta arrivando un amico mi dice il gioco oh e chi è il suo amico ma un amico o un nemico e ci sta prendendo per i fondelli il gioco io no non so ah madonna salut oh oh cos'è che c'è lo sopra l'ho atterrato grande grande però non è finito perché c'è l'amico che lo può uccidere e lo può curare siamo nella zona sicura occhio ai nemici interessante questa cosa vai o ci andiamo è morto è morto ok si è buttato da morto capisco dov'è si è buttato nella dietro ha avuto talmente paura di noi che si è buttato giù vai bravo io l'ho visto uno bravo Sharder vai Sharder vai guarda che ve ne ha puntato uno eh che si è butta fuori il testolino no no ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi eccolo là hai visto che andate dietro faccio per voi io faccio una faccio un po' la pipina vai 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 occupato no sto facendo di vista aspetta che ho fatto qualche granata dallo scarico niente cosa sai che brando qui muori allora ha rotto cacchita sono qua si buono un'altra terra aiuto a terra ma chi è c'è la munizione tutti morti grande moris tutti sbuertos che cos'è il contratto ma perchè ho preso il contratto dove ho preso il contratto sharder è un grande grandissimo oh però sharder domani mi devi lasciar vincere qualche partita vabbè ogni tanto fai finto che ti si buca la gomma si si subito guarda allora ti sportello allora ti sportello come un maledetto alla prima curva sono morti due? grande grande non vedo nessuno morti tutti c'è uno sopra lì c'è uno sopra lì io sono morto sono morti due là? no no come siete morti? ma chi è che tutti mi rianimo da solo vai rianimati che io ti vengo a toccare tu sai che ti tocca spai fermo non ti arriva a un mare è troppo tardi scusa amico mia vabbè vabbè ecco poi ti stavo dietro di te un'altra terra ok mi sento più sicuro è buonissimo ma perché non muore? grande grande mattonella dove sta raga? eh lì l'ho terrato quello che non gioca è la cura allora io sono dietro di voi raga mi sto guardando tutti eh attenzione uno dietro correte dov'è dov'è è vero hai ragione più vicino capisco da dove uno da là eccolo eccolo sopra la casa davanti a noi a terra perfetto porca scusa shard scusa io spavano tutti a voi scusa moris oh c'è uno che va con le foto con il camioncino nel fondo ah quello ci ha rubato la tecnica ah gli avrò sul ginocchio shard vai vai aspetta aspetta dopo giro diciamo oh oh guarda la uno non so c'è un tuo amico che ti ha detto qualcosa però eccolo qua uno uno su qui sulla casa raga qui no oh 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 sono morto no si posso ridurre di mare? si posso ridurre di mare? no? gioco gioco mi sono curato mi sono curato grandissimo oh stanno arrivando li vedo rosso dappertutto raga una terra grande aiuto aiuto un'altro pure un'altra pure unicù uno uno manca tu ma vai vai la come è tutto verde? si puoi cura ma no ma no stupido bisogna andar dentro di là ancora tu ho visto per conti vai curatemi no è rimorto è andata benissimo come prima ragazzi siamo stati bravi dicevi che chiedevano a morris no no hai risposto eh si è c'è Maurizio grandissimo ciao Maurizio mitico no non è possibile Kiri non ti possiamo lasciare andare adesso devi per forza stare collegato tutto fino alle quattro di notte ciao Kiri ciao Kiri saluta i bimbi eh mi raccomando e se per caso fra una mezz'oretta sei ancora eh entra dentro ancora giusto ragazzi ancora ancora ci sta sono arrivati 5 allora ho fatto 2 kg in posto dopo questa mi fate rientrare bella lì dai vai un attimo in pausa grandissimo Ale si va bene ma non devi andartene devi rimanere in parti amico mio eh ah un'altra partita facciamo si 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 ah io ne avevo avviato una no no fa niente la prossima la prossima tanto il mitico dissociatore può dissociare per tutta una partita intera sta sopra uno non ce ne sono proprio i panciulli mamma siamo eeeh allò sta su che c'è che c'è allora 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 smettila mamma no 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 senza far bannare bravi raga perché qua se banniamo un marco drums non ci sta più live piccolo marco perché stai giocando con un gioco che non sei tanto bravo ma per fortuna che c'è gli amici che sparano a tutti su stai dietro il meno angolo senti come la canzoncina solo una volta riuscisti a sparare ma di culo ti è andato un piccolo marco bella bella mi piace dai questa volta spacchiamo giudì giudì dica 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 dottore giù giù oh madonna scusa giù giù ma si chiama giulia marco no dime tutto andiamo contro va a passaggiare passaggiare la tutto vai scendete andiamo contro allora andiamo al punto blu non ha capito cosa hai detto scusami sopra il tetto sopra il tetto davvero davvero e come facciamo a fare due squadre scusa grande giù ah giù giù ci fa i complimenti a tutti e dice che non si annoia a guardarci grazie grazie mitica grazie di brutto tantissimo tantissimo e fai una mega pubblicità giù giù al canale e a tutti noi che ci facciamo le mega live voze tutti insieme tutti insieme amici parenti fai l'account al cane al gatto iscrivili tutti a marcotha ragazzi arrivo immortatata davidata parchi arrivo forse dei cop� ports allora giuri poi cacchio ui cacchio scappa scappa ma dai ma questo è stato un cattivoide cosa succede che si è bloccato tutto ma ci ha buttato fuori la partita dai vieni 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 deve venire il dissociatore allora io mi distacco di staccati l'attimo ma non per sempre la personalizzata non lo so con la personalizzata maurice maurice scusa con la personalizzata dice sharder quanti possiamo giocare la carico con la car con le partite personalizzate quanti sono le modalità maurice non si può fare caldera personalizzata non credo si può fare carico prova ad entrare dissociatore che così vediamo oh marco hai visto che sono a livello 7 mamma l'ho visto 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 ora capisci il mio dolore di fare certo livelli e poi abbassarsi mamma mia mi dovete invitare ma come forse perché aspetta aspetta allora allora ti chiami sulla psn xx qualcosa vero perché non ti vedo aspetta se no entra dal party aspetta dovete invitare dal fatto regalato è stato regalato un abbonamento mori mori grande giu giu allora entrato aspetta che arrivo dai calmo dissociatore è caspita devo ringraziare per l'abbonamento grande maurizio grande papà di mori grande bella buona mento ragazzi e grazie anche giu giu che a me mi hanno regalato un abbonamento dai ragazzi un abbonamento per paolo forte dai facciamo partire gli abbonamenti facciamo partire abbonamenti a fiocco ragazzi stasera dai regalami tu un abbonamento dai grande lord dopo dopo poi bugiriamo ancora dai 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 grande lord mi senti senti mi ti sento regalami tu un abbonamento tirchio eh sì sì ma la fa subito e almeno un attimo ma farlo in bagno forza un po te lo regalo io a te qual'è il problema forza ragazzi eh mi serve devo dare la falsa allora forza ragazzi fate giu un sacco di abbonamenti eh sì morisi grandissimo ci stavamo dai passati anche sette moris grandissimo ma è salito di livello raga è cioè 7 perché è passato il livello dopo è come no come no io non so il perché ah ma io pensavo che è risalito di livello t'ha fatto partire al livello 7 mi ha fatto ripartire quando ero al 60 ma chi è che sta a morire sta notendo la bella la giupiter giupiter di germi vai a lavarti il naso sei allergica alle mele non mangiare mele non mangiare le mele le mele per le mele per mattonella grande mattonella avete visto ragazzi che bello cartonato il megalogo marco drame è allergica si la nostra amica miticissima stefania mi dissocio da lord anch'io mi dissocio da lord stasera sono allergica lord lord 19 per uno starnuto grande ci vuole un fazzoletto grande arrivo arrivo grande tu sei l'unico streamer che legge i commenti grande mattonella grazie vedi c'è anche c'è anche io prima li facevo e poi c'è anche mia moglie la grandissima bragali che legge i commentozzi io ragazzi sono partito grande maurizio allora ragazzi qui ho fatto un massacro adesso non ammazzaro nessuno quindi partiamo partiamo malissimo allora io posso la prima partita è andata bene sì 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 no abbiamo la seconda è andata male andiamo morris ad arbor dai la terza va bene per forza per forza ragazzi andiamo contro ma pusciosi proprio comunque ragazzi come dico sempre dobbiamo divertirci non interessa niente a nessuno vincere ok bravissimo ok perfetto io dico così perché normalmente io non vinco mai quindi no io mai cazzo invece ciao ragazzi benvenuti i mitici amici di twitch scrivete nella chat così vi salutiamo online io ho mancato ok allora non si possono dire le parolacce te lo dico subito Charles perché ho sentito la tua voce è un po' un po' arrabbiata è un po' arrabbiata oh è la mia voce d'arma esatto se no domani tu corri con la golf e io corro con la con la chi si chiama no gioco io dal vivo non lo conosco morris ma quest'anno alla games week sicuramente che ci sarà quest'anno andiamo e tutti con la maglietta marco drums è perché adesso prima di del mitico coso ci sarà il merchandising potete comprare le magliette di marco drums e anche a chi ho promesso che gli regalavo io ho promesso che gli regalavo le magliette e gliele farò pagare quindi ah 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 bastare amori qui gli affari sono io glielo rubo allora io sono qui raga eh sto curando il la nave va bene? io devo prendere qui vai vai ok ucciso ok ho preso è la guarda che faccio attunzio che dovrebbe stanno sannando la nave io l'ho bastato uno io ho pure anzi due anzi tre vai moris grande moris anzi mi sta arrivando uno dove sta? andi quattro grande ti vedo stai facendo un massacro Sei bravissimo, 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 super spry Tutti, tutti, morti Le hai massati tutti tu? Ma che cazzo, cazzo Dobbiamo andare a prendere la nave che saliva No, no, ragazzi, arrivano, arrivano, arrivano Arrivano, caspita E dal palazzone Porca Ah, ma tu sei andato lì Ah, non eravate qui voi? Ah, bellissimo, bravo Eravamo proprio dall'altro Ah, dall'altro lato della madre Dobbiamo andare alla nave che Si, sono presi le armi Allora, io ero già la nave Comunque, quindi sono andato oltre Allora, nave Dov'è la nave, cazzo Allora, caspita, Rinas Ecco la nave Eh, ma non ci arrivo la nave No, no, no Una terra Morto Uno Ucciso Ti curo da dietro Oh, 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 chi è che c'è? Aspetta che ti rianimo C'è un'altra Fermo, fermo lì Fermo lì Io provo ad andare a pushar Ah, ce n'è uno Porca loca, charde Ah, per un pelo Qua sono le armi Ok Un altro Un altro L'ha uccisi tutti, credo Grande Grande Moris Dai, 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 dai Ma non mi voglio Datemi i soldi Bravi Anche se non mi serviamo Perché ce l'ho Però compriamo Mamma, grande Moris Si compriamo Anche Vieni, vieni, vieni Dove sei? Dove sei? Allora, moris Guarda, te li do Allora, aspetta Destro Triangolo Vai Eccolo qui Sieli Dobbiamo andare qua Ho dato tutti i miei money Pago, ho pagato, ho pagato A 20.000 euro Caspita, io sono senza soldi Guarda l'arma La terra Bella Perché compri le armi No, questa è un'arma che si trova in giro Ah, l'hai trovata in giro tu? No, allora Vi spiego così Quando venite Ti seguo, ti seguo Andiamo, raga Allora, praticamente Attenzione Sopra Qua dentro Sono sopra Qua dentro questa finestra Ok Ok, qui E poi sopra qua l'ha trovata Qua sopra Ah, va bene Va bene Perfetto Moris ha fatto la sua prima cosa ufficiale a 4 anni Eh, lo sappiamo che è un grande Bello, mi piace, mi piace Brava Giulie Mi piace, il tiburon La nostra Ti vengo Sì, sì Moris è un grande Se hai detto che sono sopra, si push Sì, sì Sì, sì, sì Li ho visti sopra Poi non lo so sinceramente se sono sopra Tra un po' arrivai la chiusura dell'anello lì che mi ha mattato prima Quello che è sopra l'ha ucciso Eh, grandissimo Raga, ragazzi Oh, io non sono con buono Aiuto, mi stanno uccidendo Oh, oh Andiamo Arriviamo Ragazzi, c'è uno giù Bravi Attenzione Uno l'ha ammazzato Uno è andato Bravissimi 25 rimasti Stai andando bene Attenzione raga Mi devo mettere le piastre C'è qualcuno? Allontana Se ne sta andando Stai arrivando un nemico Attenzione in alto Morto One hit Bravo Attenzione ragazzi Ok Abbiamo tutto Oh, sono andati di là Sono andati di là Andiamocene Andiamocene Sono di là loro Dove c'è te? Eh, siamo arrivati un po' indietro Arriviamo Grande Marcodran Grande Wallis Attenzione Oh, oh, oh Attenzione ragazzi Oh, oh C'è uno strano Uno Cattivone sopra L'ho visto È andato indietro Il cattivone Beh, 40 secondi Ecco no Sopra Attento Morris Sei lì, eh 8, 8 Ecco lì Alla finestra raga A più piano No, no Qualcuno mi anima A terra Un posto Non lo so Aiuto Aiuto Qualcuno riesce a rianimarmi Che sono sopra qui Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, io ti copro Dai, da che arriva anche la nebula La arriva la nebula Andiamo 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 No Ok, grande Grazie Dai, dai Faccio le corazze Corazza Ok, ce l'ho solo una Io ho visto qualcuno là Sennò Si, si l'ho visto bene Ah, eh, se l'ha sposto però non vedo più niente Hai ragione, hai ragione Hai ragione, hai ragione Oh, grazie Entra dentro che c'è un attacco No No Aspetta, mi devo pure lasciarle Vieni Venga la cosa No Poi non vedo niente No No La mettiamo in basso Vabbè E per rientrare Ho visto uno qui Ho visto uno sul palazzo Qui davanti Qui Qua Da già Oh, c'è uno che sta srotolando sulla porta Beh, mega bug Toccatemi, toccatemi Oh, subito Cidi la porta Cidi la porta Oh, la porta Aiuto, aiuto, aiuto Attenzione Attenzione, ragazzi Ok, grandissimo No Sono mega morto La terra L'altro manito L'altro manito Ce la puoi fare Va bene così Che chiedeva gioco-gioco Gioco-gioco Così si Va meglio No, ragazzi È arrivato uno Fatto un disastro Mi ha chiesto qua Ah, no, è Morris Guardate, Morris Ha fatto un disastro Grande, Morris Stavo dicendo È arrivato quello Ha fatto un disastro E Morris Grandissimo Arrivo, raga Vanito 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 Attenzione No, hai curato Ok, ok Va bene, va bene, va bene Mitico Attenzione che sto arrivando Oh, ce la fate? Io sono Oh, oh No, no, scusate No, scusate raga No, cosa è andato? Ha detto che è spento un attimo Ale Torna dopo Quindi andiamo avanti Tranquilli Dopo Torna dentro Mannaggia Mannaggia Patatosky Si vanno andati a chiudere il gabbiotto Allora Non riusciamo Eh, non riusciamo Gioco gioco Perché devo sistemare OBS E purtroppo va a scatti Quindi sto vedendo di sistemare un attimo Se riusciamo a fare tutto l'ambaradam Così si vede anche lui Un attimino di pazienza ragazzi Abbonamenti a manetta Che qua serve comprare il PC nuovo Abbonamenti a manetta raga Vai pure, vai pure Quando vuoi Eh, sì, peggio Ok Ma Ale Sei dentro in party? Sì, scusate Sì, scusate Mi sento il microfono mutato Ah, ok No, perché ho capito una cosa tipo La play urla Spengo Non ho capito Sì, sì No, no Praticamente Sono uscito solo dal gioco Ah, ok Sono preaccesa Ah, così non scalda Esatto Perché adesso Vedo che sta volando La mia postazione Da lei A breve Vedi, vedi Maurizio Stai tranquillo gioco gioco Che a breve si farà tutto Se vede che sto faccio volare Così ci sarà La mega live Con Marco e Carla E sopra Il mega Morris Che gioca alla grande Però attenzione Un attimo Perché Sarebbe figo fare tutto Ma raga Fate giù abbonamenti a palla Perché qui le cose Costano un botto Quindi Ecco Si mangia la play Bravissimo 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 Veramente Veramente Maurizio Ti denuncio la corruzione Oh qui ci abbiamo le denunce Già In party Oh raga Buttate fuori Questo Chi è Questo qua Bravissimo Vi denuncio Poi Domani Avrai Sportellate Sportellate Non finire Ti conviene Ti conviene Perché domani Allora Tu andrai con la golf Ok Col cambio A pedivella E io vado con la Quella di da 6 milioni e mezzo Che ho comprato oggi Va bene Mi sembra E come non vale No no Che Non ce l'ho Non ce l'ho Colpa tua Farma tutta notte Dai da con un monster truck Guarda è sicuro Tutta la famiglia Esatto Qui farmiamo tutta la famiglia Ho notato per comprare Quella macchina Guarda Qui stiamo farmando tutti Charler Metto mio figlio Quando arriva Che c'è la scuola Mia moglie Nei cosi Ormai ci ha obbligato A 6 milioni A una macchina 6 milioni È bellissima Adesso voglio comprare Quella da 9 milioni e mezzo La BMW Mettorale Bella lì Così facciamo la gara Io contro quella E tu contro Con un panda Come forse Che c'era Entravo Dai Morris Grandissimo Maurizio È certo che devi entrare Anche tu Caspita È divertissimo Maurizio È pupane Sì Il mega pupane Dai Maurizio Allora quando giochiamo Dimmi quando ci sei È bellissimo Però è bello anche Warzone ragazzi Poi col mitico Morris Che ammazza tutti E noi andiamo dietro Ma è anche Il grandissimo dissociatore Bravo Allora dove andiamo ragazzi Dove andiamo Ditemelo subito Ciao Dove 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 ragazzi Non lo so Dove andiamo Allora dove andiamo Allora dove andiamo Allora dove andiamo È vero è vero è vero Ok stavo ammazzando uno Ma non è andata bene Tanto è bellissima Sta La pistoletta Allora io sto venendo da voi Ah Benvenuti Io arrivo ragazzi Ma sono distante Sono distante purtroppo Eh mi serve l'aiuto Molto fa Un aiuto Benvenuti nel canale Eloce Ciao amici Benvenuti nel canale Il nito sto barbandamento Allora Uno ho preso l'elicottero Uno ho preso l'elicottero Raga Sto venendo io da voi eh Però non so se riesco a L'altro è morto Sto venendo sul palazzone vostro eh Attenzione Amore non puoi avere sonno stasera Due a terra No È volito è volito è volito È volito Dai Attenzione ragazzi Sotto ci sono eh Sotto ci è la mia Un botto di roba Attenzione Attenzione che uno Ma ho matato giù eh Attenzione ragazzi Mi dici Arrivando Onormile Ok sto arrivando eh Sto arrivando ragazzi Senza di me Non potete fare in nulla Dai dai Morris Arrivo eh Sarebbe figo Grande Giuri Oh oh Ai 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 Cacchio 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 Sì sì di Maurizio Certo certo lo facciamo Lo facciamo Organizziamo tutto ragazzi Attento 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 Io non posso dare un pugno Gatti Mi vorrei Ehm Erano due Eh Va bene dai Questa qua è così Per scaldarsi Partita malissima Eh sì era per riscaldamento Questa è riscaldation anywhere È brutto quando inizi Che vanno due gruppi Nell'altro Sì è vero è vero Eh Ma andiamo dove siamo andati La partita prima Che mi sembra che era un po' meglio Dov'è che siamo andati? Alla nave Eh Che domande farai Vorrei sapere che domande Ah tra di loro Perché adesso che c'è Papà di Mori Dai sondaggino in live Lui farebbe le domande Ah ok ok Va bene Organizziamo Grazie a Maurizio Dai organizziamo una mega Una mega serata Dai un sondaggino in live È un sondaggino amore mio Si sta Organizziamo una mega serata Eh Con Maurizio Eh Tutti gli amici di Gran Turismo 7 Con Mori che guarda Allora col punto Perché si gioca su Bonpa È una bella pizza Che mi arriva Direttamente Col corriere Da Da casa di Dalla pizzeria di Maurizio Eh no Io me ne vado A mangiare Di nuovo Ah Hai capito Hai capito Sharder che mangia di nuovo Quando hai mangiato Le 8 Mangia anche le 10 Bella lì Non stai la fame Dai Come va Ale vieni dentro Come un Hobbit Mangia Fa la cena Seconda cena Aspita Grande Grande Sharder Dai 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 Oh rimani dentro Il live però Eh Ci sono Vengo a giocare GTS davvero volentieri Va bene Va bene Dai organizziamo Mitico Caspita Ci mancherebbe Gran Turismo È top Of the top Marco Drum Top of the player Vabbè Non esageriamo Però Non esageriamo Perché domani Gli devo bucare le gomme A Sharder Se entra Cazzo Ti buco tutte le gomme Ti buco tutte le gomme Ti faccio andare Col 500 Ti faccio andare Io con la La GT1 Ecco Eccolo Grazissimo Dopo però Facciamo un carico Allora adesso Sharder va a mangiare È finito questa È giusto Sharder Puoi fare questa Stavo sgassando Ah non vai a mangiare Mi stavo già andando a venire Fave Ascoltate ragazzi È un orario Che io Ho 44 anni Di solito Sono a letto Quindi Se fate queste cose Battutine qui Io non ne capisco Pensavo che te Andavi davvero a mangiare Marco vedi che Ho marcato la nave Bravo Grande Dissociatore Andiamo di nuovo Qua No Voglio andare alla nave Qualche domanda Palla Mitica Juju Ti risponde mia moglie Nave Sono quella Suonate il clacso In 5 volte E come si fanno il clacso Eh Devi andare Nella plancia Ti controllo Qua dove sono io Io mi sono schiantato Oh caspita Addio O che è morto O che è morto Oh Ti danno L'hanno fatto Oh Mentre Ma la spalla di Nardia No Monita Dai Però Ma io Ok ragazzi Dai Non si scherza Fermo Sbaglia Allora Io sono qui Eh Attenzione Piere 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 Un grande Ragazzi Un grande Piere Grande Dissociatore Dissocia anche con l'arma Grande Avevo paura che ti ammazzavano E guarda E guarda E guarda Dov'è Dov'è che finito Sto scemo Eccolo là Oh Ho detto Ti ammazzano Me l'hai detto E lo aveva preso E lo aveva preso E lo aveva preso Sharder Vedi che ti ho marcato i soldi Eh sì Però io sono morto Ho arrivato un medico Ci sono Io sono il curatore Dalla squadra Vedete E il medico Questa è la quarta volta Se non sbaglio Non ricordo Oh oh Dietro di te Marco Oh Oh Dai Troppo in ritardo Vieni amor mio No Raga Scusate Hai detto Dietro di te Bravo Pierre Che ce l'ha ucciso Vai suonate il clacson Cosa sono No No raga No raga Sono morto In acqua Mamma mia No scusate Non mi ricordo più Che dovevo schiacciare il quadrato X per i paracadute Non mi ricordo più Che ci dovevo schiacciare Non mi ricordo più Non mi ricordo più Fate casino ragazzi Scusate Dai Fate arrivare le scorte Troppo in ritardo E' sempre arrivato Con questo clac No Forse questo è l'ultimo Dai 1 1 arrivo Arrivo Non va Non va il clacson Ah rinforzi sono RB Stanno arrivando Oh 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 Le ho visti i soldi Allora all'inizio Io marco domanda Secondo te Morris Può fare bene Nel tuo canale Io ti seguo da poco Però non so se già Giocavi a COD Si si giocavo a COD Però Poco Warzone Warzone ci giocava Il mio figlio che c'è dietro qui Vieni per farti vedere Leo E mio figlio Leonardo Ciao Leo Ciao Leo Ti saluta Mi hanno spaccato E quindi Info ci sono in arrivo E poi non sono arrivato E quindi Giocava lui Che è bravissimo Oh oh Si Ciao Leo E la Giulie Che ti chiamo Ciao Leo E la Giulie Che ti chiamo Leo non ti senti Però adesso vuole fare una partitina Chi vuole fare una partita Una bella pochia sinceramente Grazie Giudurì Giudurì Ma leggi Leggiamo Leggi Ciao Leo Saluto Maurizio Si Si fa qua Grande Allora Oh ragazzi Ragazzi Stai tra duro Giudurì Leo Ciao Saluto a tutti L'amore mio No non dovete più suonare A covid A covid A covid A covid È atterrato È atterrato A covid Io giocavo all'altro Come si chiama l'altro covid L'altro covid Stavo dicendo L'altro covid Lord 19 Oh oh Ho preso il fuoco Io sono qui Se vuoi Vieni qui Vieni qui Aspetta Aspetta Il gigante e il bambino Moris Ok Vieni miei Quindi ci giocavo Però sinceramente Ho perso un po' La manina Eh raga Ok No 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 Ok Io pure Il tormento Avevo un gruppo Che si chiamava Sdmn Squadroni della morte nera Ok Ho i soldi Mi facevamo davvero Paura Però ti sto parlando Della playstation 3 Con Modern warfare Modern warfare Modern warfare Modern warfare Bravo E beh Marco Già Oh 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 Arriva uno da dietro Attention Eccolo in alto Ah no E cosa E pierre E pierre E pierre E pierre E pierre Venite qua Ho tirato il lancio Ok Arrivo Lancio Ma dov'è che cade il lancio Sulla nave? Raga Attenzione Attenzione Che hanno visto il lancio Sicuramente Porta giù Olivia Tato Poi dopo Che devi giocare tu Oh che ragazzi Ho tirato una lancia Ragazzi Ah guarda La tua Non ti preso il lancio Merda Grazie Grazie giù giù Scusa Perché stanno succedendo tantissime cose In questa partita E non riusciamo a starci dietro Allora io provo a cecchinarmelo Che fuori E' vero Atterra uno col cecchino Ho atterrato uno col cecchino Grande L'ho visto L'ho visto che l'hai risegato L'ho visto proprio con i miei occhi Carla Dice da giù Menomale che io porto sempre Avete col picciacchino Oh raga Ma si sta chiudendo il coso qui Bisogna correre Eh 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 Giovi sai che non ti ho sentito Hai sentito solo Carla No ha detto Carla Ah ok Hai sentito che ha detto solo Carla Perché Carla il contatto di starnutico ho fatto Terra un altro Morti tu c'è due Questo che è oh Ma chi è questo qua oh L'ho uccisi tutti e due Ah Era uno di noi Ma guarda che Tu sei entrata proprio dove l'ho uccisi Nel momento in cui l'ho uccisa Ah che culo Che forte Oh arriva la robazza verde raga Andamocene Eh si Non faccio più perché Si è scaricata la cuffia Eh vabbè Dai ti dico io Tanto basta che leggi amore mio Si le lego Ci vorrebbero dei popi con Non ci sono Non so Che schifo la mela No è buona la mela ragazzi Oh raga io sto andando dall'altra parte Arrivo Vi seguo Vi seguo Eh guarda mi sono persa nel quarto Mamma mia Marco fatti le piastre Arrivo Hai ragione ragione Ma non ce le ho Non ce le ho Tieni Arrivo Arrivo Che piacere Che piacere Vedi Non toccate le mie piastre Ragazzi Non toccate le mie piastre Grazie 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 oh si sta chiudendo la piastra ancora il coro qui anello potresti dire una cosa a moris guarda come spara bene quest'arma moris ha morto moris ha detto tuo amico mattonella che spara bene quest'arma la mia sicura quale mattonella la mia la sua no perché a suo punto non ho capito la sua non la vede la mia che ma che arma è questa qua io io una io una io una io l'altra presenta aiuto ragazzi 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 ho ucciso uno no attenzione raga tutti muti bellissima dai ragazzi dai sharder attenzione dai ragazzi dissociatore poi è un grande vai pierre grandi ragazzi grazie moris maria animato tipo 3 4 volte marco una bella carbonara ci sta aspetta ai 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 eccolo la eccola l'ho visto dove arrivano non possono dire di marty no lo dobbiamo curare per forza con attenzione ora ancora 19 persone caspita gioco si muore per la voce così se viene vedi grande ma chi è che mi sta rianimando ancora moris scusami moris io se non hanno seguito no charder ci ha spiegato tutti non ci credo quello sopra ho visto fatto un altro allora senti in parte fa di coloro è che praticamente tutti moris scusami moris scafono di stazione medica segnalata io ho salvato ho salvato marco ma c'è uno sopra il telefono ma siamo morti tutti no 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 chiacchia vivo moris dai dai ragazzi vincete per noi dai no anche la dubola no è vero il gioco che stava per morire e non c'era giochi per divertimento se l'autoclonato ok allora ok ragazzi adesso gioca il mitico zan e boy il mitico il mitico leo dai dai allora scusate ascoltate gli do l'auricolare a lui però sono qui anch'io ok saluta a tutti come state ciao 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 non sei meglio ma il mio bacio si è vero senti di spiegare oh ma il mio caricamento non finisce mai no infatti mi spazio ma perchè quel vero con la o minuscola non lo so allora io rispondo da qui ragazzi un'ora di caricamento metto l'auricolare nel computer la prossima sarà due ore carica qui e poi viene imitato guardate l'attrezzatore il mio incan... cioè il tuo incanegno cosa seleziona? primo x piatti di farà cadute vabbè oh mattonella ciao amico mio no ma siamo già con i miti no chi la frega eh vai la frega eh sono già morto ah ma è... col cieco ecco non si va ok 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 mamma quindi giocavamo ieri Marco ho capito ho capito no infine ah no perchè sono già morto e sono a posto quello non l'ora sulla torre ne ho visto uno fine dell'allenamento boh ma ancora la partita non è iniziata no ma non è iniziata no ma non era partita no iniziamo di nuovo no no stavolta andiamo di nuovo a coni e la inizia bene come figa Pippo con gli occhiali ha detto che devi parlare un po' più forte ne amore mio dai forza ok il mitico Maurizio ha detto voce voce del Leo vai Leo ahahahah allora gli alleati caduti possono rischierarsi finchè rimanete in vita guadagnate punti per farli tornare prima di qua tu sei accorso guarda che c'è un nemico ma la vedo male nooo ancora un la persona che c'è resa ciao lord no ma che c'è qua un nemico no non credo che c'è qua di quelli di qui non vedi il nome sono un nemico grazie di tutto eh ma perché non gli armi non si sente la mia voce raga si 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 ciao giuri è un altro morto? a domani giuri giuri nooo ragazzi aiuto e non c'è mai l'arma ma vai carini mangi serve un aiuto mi serve un aiuto ma li sto uccidendo tutti mi serve un aiuto ma li sto uccidendo tutti un altro a terra morto il ministro aiuto ragazzi a occhio dai non ci credo attenzione sharder ragazzi ma voi sentite bene l'audio e le voci però scrivete il chat per cortesia allora escomi qua no tutti di nuovo io lo faccio in terra muoio allora ok il puccio della flag ho anche questa ragazzi ma non mi trovo attenzione vai sharder guarda questo è stata un'altra faccia dai dai vai finita di lì non l'ho visto ci sono marco attenzione mi trovo trovato arco vai a piedi che ti sento no no è vero che non sto giocando là hai bisogno di aiuto se non trovo un'arma non lo fa eh devi alzare la voce alzare la voce alzare la voce dai forza attenzione che arrivano i cattivoni no guarda questo attraverso la volta eccolo vai 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 attenzione che c'è un altro da me ce n'è un altro è tiburon uno l'ho finito è cacciata il tiburon no bravo leo venite da me si sta rischierando no no dai chard tieni botta 10 secondi non c'ho armi scappa scappa vai ok sei salvo vendo miticoin ragazzi vendo miticoin per soldi veri comprate i miticoin miticoin non è ancora finita sto tornando sul testo i rinforzi sono in arrivo ok ci siete tutti ragionatevi ragazzi coltellino vai dove c'è un nemico ti sta braccando non ho colpito vedo invece il paolo è rimasto nell'angolino si è paolo è cresciato non si muove dottore occhio guarda avanti risconta lì non so se da lì o dalla porta c'è puntino è uscita dalla porta ma lì ho visto sul tetto da me ci sono due nemici ne ho ucciso una col cecchino e non me lo uccidevo ero morto è quello lì ero morto un tuo alleato è appena rientrato allora se non prendermi l'armi mentre c'è qualcuno che gli dai le schiena attenzione attenzione no vai vai questo guarda con l'arco vai buttati là la torretta l1 l2 l1 l2 va qua va qua ecco qua buttala 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 torretta si è lato qua buttala basta che la butti per l'arco c'è tipo lì stavanti eccolo là eccolo là colpito una volta sul tetto un tetto va Diego no mi piace non riesco a giocare vai bellissima non riesco a giocare io a prodotto ah 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 bella lì bella lì raga come si fa bellissima sta partita facciamo carico facciamo carico dai un bel carichino un bel carichino dai gioca ancora tu leone fai un'altra amore ok dai ne fa un'altra il grande leo eh ma devi sentire loro amore mio come fai a tenere io la cuffia che tu devi sentire i tuoi amici che ti dicono cosa devi fare o non fare dai segui il grande moris dai 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 saluta il grande moris ciao moris dai andiamo a ammazzare tutti andiamo insieme benvenuti amici stiamo facendo una mega warzonata con l'amico moris l'amico dissociatore Pierpaolo e l'amico Shard il grandissimo Marco che domani ci sbarelliamo in Gran Turismo 7 vi aspettiamo domani ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi al canale eh amici miei sono in vendita i sono in vendita i meticoin ragazzi scambio 15 meticoin questi che vedete che ho in mano per 50 euro l'uno ok quindi se volete comprare i mega meticoin scrivetemi in privato più spedizione ti do 10 euro vai allora Shard mi ha giocato i lati 20 e sono 5.664 euro grande Shard bravissimo così mi piace bello bello massimo vai a ritirare i soldi in banca e manda lì mi raccomando in busta chiusa provi domani ti buchi da solo le gomme ebbè se mi mandi 5.000 euro mi buco le gomme dalla macchina non mi fai chiamare quelli di Gran Trisbee eh quelli di Gran Turismo si che buca devo bucare non mi è venuto altra che dire buca buca devo bucare lascio le tue macchine le faccio tutte allora calcolando che sono proprio da 800 euro 6.32 non è che ci vado a guadagnare tanto quindi facciamo che non facciamo niente va bene così ma sono falsi vai no no questo è un falsio i Bitcoin sono veri tra un po' varrà molto molto più ah ebbè allora sei pure un falsario no che cavoli che cavoli i Bitcoin tra un po' varranno di più dei Bitcoin ragazzi ve lo sicuro a Marco D'Ano di Game fate incetta di Bitcoin raga vendo Bitcoin a Fionda ok è una pistola che ho 80 colpi adesso perché sì perché la sai dovrei allenarmela perché è diventata una mitragliatrice così è fortissimo forte allora il mitico Leonardo ha ammazzato uno ma l'altro poi l'ha segato quindi ci sta bravo bravo Leo bravo allora segui Morris Pierpaolo e Charger ah ma questa era la prepartita vabbè allora ciao ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi allora vediamo chi deve portare il carico nel carico di noi dai andiamo ah il carico è bella questo del carico ok io qua me la posso allenare la pistola che fa dietro dietro amore se no ti sparano dall'altra parte per un pezzo non c'è nessuno e c'è ancora non c'è nel fratto è bravo che ma adesso le piastre ce l'avete tutti ma Morris non c'è le piastre o sbaglio non me l'hanno cacciato ok con memoria c'è morto ho fatto a vero scusa assolutamente ora che sta prendendo piastre la manetta la manetta quindi le lascia a terra ok quello lì mi ha ammazzato vedi bravi bravi vai 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 eh sono dappertutto no 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 tu vuoi è blu dai ragazzi forza forza ragazzi ok no dietro no punta sempre davanti se no si sparano vedi che sono davanti sono in alto c'è poi amore devi puntare sempre in alto sempre in alto ma bisogna spingere avanti il carretto e anche ammazzare non muoio non è ho visto anche leone attento dall'alto sempre dall'alto sparano a caso guarda non vedi un fumogeno attento che sono ancora là finché non fate fuori i cecchini raga più a paolo ma ci sei ancora guardalo guardalo più a paolo lo hai tracciato da prima ah ma davvero oh caspita non so il perca anche nella live allora aspetta che gli scrivo ma lo vedo però il tiburon dentro guarda te dici che è uscito e non è in live no in live in lobby scusami sto sbagliando a parlare ma si perché è zero che è nella partita però non sta giocando perché è zero soldi possibile andateci e qui lanciatemi lanciate su 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 neanche ok dai 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 che ce la famo forza raga si avvicina al secondo checkpoint ce la possiamo fare raga dai 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 oh oh attento lì a destra destra lì 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 e dappertutto lì sopra quindi quando arrivi vai lì perché sono lì se non li ammazzi lì puoi buttare anche le bombe butta le bombe a cavolo che io prima funzionava eh è quello sopra ma quello sopra si cosa delle bombe amore questo dai 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 che ce la famo dai che ce la dai 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 bombe 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 di davanti bombe di davanti bombe bom più basso bravissimo oh amo eh si abbassati se vuoi abbassati proprio ok sdraiati proprio occhio che dietro ti sento arrivando in davanti occhio occhio eccoli ok bravissimo bravissimo dai che il checkpoint l'abbia fatto e non muore questo dai 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 che stiamo correndo bellissima sta cosa dai 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 attenzione vai dai spara spara attento eh eccoci vai sì sì sto giocando Leonardo non ti sentivo eh sto preso a vedere cosa state facendo mi sta prendendo la partita sono sull'angolo a destra in alto eh sopra sopra la montagnetta attenzione ragazzi eh c'è uno col cecchino sì c'è il cecco c'è il cecco attenzione attenzione scorta in corso dai raga dai raga occhio bravo bravo Leo attenzione dai una bomba dentro lì vai una bomba è una bomba anche davanti bravissimo attenzione a quello là bravo vai di fianco al frugone che va avanti ok vai occhio dietro occhio dietro no che ginomo era dietro si stava sparando c'è uno sopra il la torretta di dell'acqua eh attenzione raga dai andateci dai manca un 2% è incredibile questa partita dai raga 1 minuto e 40 bravissimo fai così che va sempre di più fortuna 1 minuto e 40 siii dammi 5 grande Leo bravo Morris grande grande sharder grande sharder è grande anche il mitico Pierpaolo anche se non era in partita noi dobbiamo proteggere adesso è il contrario devi proteggere l'hai già fatto questa modalità? no infatti è un po' che non giocava eh no Leonardo non l'ha fatta non l'ho fatta non so come adesso beh però è bella eh una bella modalità secondo me è bella serve per spezzare la sempre quell'altra modalità che devi ammazzare e rimanere da soli no? bella c'era anche in Overwatch questa modalità tra l'altro voi ragazzi ce l'avete Overwatch? eh non ce l'avete no no ok è fighissimo Overwatch devo arrivare al livello 40 no il 33 dai un attimo allora ottenzione si perché si mi posso fare la pistola va tipo una mitragliatrice ah quella che mi dicevi prima quando sono di pistola oh c'è miseria fai tu testi chicola solo con la pistola grande mori eh sì ma uno mi entra da dietro no c'è c'era anche di fianco eh diciamo che a questo punto qui si arriva a un certo punto che il carro arriva per forza dopo dopo si riesce a fermare il primo pezzo davvero andy vettero ora la incredibile guarda questa attraverso le capaglie bravo assoluto grande poi vedo che c'è Carlo che non si deve muovere bravo bravo occhio bravissimo 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 e che erano torretto fino a città parola a prescindere ci sarà dentro qualcuno nel carro dentro al carro sono sicuro guardalo lì bravissimo c'è uno dentro il carro sì dentro il primo carro attenzione vedi che era dentro c'è uno dentro il carro ragazzi nel cassone nel primo carro dai raga forza dai dai devo per forza giocare solo caspita come come torre quel carro il carretto viaggiava io mi amo grigiava fermate quel carretto vai 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 corri che non sei ligno bravissimo vai vai che vai indietro bravi ragazzi occhio 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 sento c'è arrivato l'altro da sotto vedi che il dissociatore non c'è più infatti volevo scrivere dov'è il mio telefono raga ok qua scusa io mi muto un secondo arrivo subito si va bene gioco però mi muto va bene va bene va bene chi ha vinci c'è ancora uno meccano dietro torretta non ci sono mai morto fai movimento passate via la stronda nevita fai movimento passate via la stronda nevita vedi non ti andare con dei rinforzi UAV alleato invo alco terzi nevita granata lanciata granata lanciata dietro dietro bravo bravo dai 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 bravo anche morto grande bravissimo e devi curarli poi li vai sopra vai al palazzo e così segui tutti i palazzi dentro mori grande va bene va bene va bene assolutamente va benissimo a noi va bene bomba 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 grande allora giudy e lord sono andati a letto gioco gioco ma sono tranquillissimi bravissimo bravissimo sono tutti tranquilli chat c'è che scrivo la tua paschit la chat è morta vivi chat siete vivi ho scritto sono tutti stanchi maurì sono tutti stanchi stanno guardando tutti tranquilli magari un po' così un po' sul divano ha letto dai 10 secondi raga dai 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 no no così non va bene bravissimo ok abbiamo vinto grande ultima occasione vinto bravissimo leo vuoi fare un'altra no ok saluta tutti gli amici comunque parli troppo piano di alzare il volume della tua voce dai dire ancora ciao amici dai ciao amici ci vediamo la prossima volta ok è uguale stesso volume stesso identico volume adesso hai parlato di più testina ciao allora vediamo cosa ha scritto grandissimo mattonella allora e morris va via a mezzanotte un qualcosina meno di mezzanotte quindi facciamo ancora una bella mezz'oretta a tre quarti d'ora insieme ok io devo andare tu te ne vai adesso eh sì domani mi devo andare a piastro ah ok di chiare siamo rimasti allora siamo rimasti io e te aspetta che sento Kevin c'era anche Kevin il nostro amico aspetta dov'è Kevin allora Sharder grazie mille grazie a voi ok grazie mille di tutto poi ci vediamo domani con Gran Turismo e vediamo se riesce ad arrivare anche il grandissimo Maurizio con noi magari nel pomeriggio a Gran Turismo se non deve lavorare grandissimo dai dai se no qualche sportellata ce la diamo una tre quattro cinque dieci partitelle online le facciamo perché poi ah devo chiudere ciao mattonella buonanotte 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 andate a fare duetto esatto bravissimo stavo dicendo io ciao ciao Sharder ciao buonanotte ciao 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 buonanotte allora dice tuo papà di andare a fare duetto giochiamo? si io e te facciamo duetto ha detto tuo papà a che ora sei su GT dalle tre in poi Maurizio c'è Mariberto a battagliarlo quello che vuoi tu io ti seguo anche Mariberto mi piace a me Mariberto mi piace mi piace mi piace stavo sentendo se c'era il mitico Kevin ragazzi eccolo aspetta esci un attimo mi è crashato non andava orca miseria aspetta cos'è che è scritto allora ciao a che ora siete su GT se vi va ovviamente come se vi va tu sei il benvenuto Maurizio devi per forza oh boba fasto domani si sei tu il mitico Sharder e Marco Drums e no Kevin no perché giocava oggi quindi Kevin non c'è dai alle 4 poi devo staccare va bene va bene dai facciamo dalle 3 alle 4 allora ragazzi vi aspetto tutti i domani dalle 3 alle 4 entra il grandissimo Maurizio ci sportelliamo il papà di Morris grande Morris devi vedere la live eh Morris ti voglio vedere tuo papà eh ti vengo vieni vieni ti invitiamo Marco ma avete finito? si si ti sto aspettando no no andiamo anche ancora mezz'oretta a far la live dici ah ok no no vieni 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 amico vieni eh non ti vediamo più ti dovete sempre invitare Marco aspetta che non mi ricordo mai come ti chiamo allora Morris eh ma non ti vedo tu lo vedi Morris puoi farlo tu per piacere? cosa? invitare il tiburon il mitico dissociatore grandissimo Morris si domani ci distruggiamo amici di Twitch amici di Twitch domani ci distruggiamo col papà di Morris ah Maurizio che sportellate che ci diamo dai dai mi piace mi piace la cosa così Maurizio poi parliamo che quella roba la di OBS eh che se riusciamo a farlo è una figata una figata assurda Morris 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 eh ascolta una cosa sai dove sta scritto battle pass eh in pratica sai che tu gli sblocchi le cose quando vai avanti con i livelli però mi da sempre il look eh il battle pass lo devi comprare 10 euro ah quindi queste cose quale posso prendere solo se compro il battle pass credo proprio di si fai le cose gratis ci sono delle cose gratis però se ti prendi il pass io sono arrivato gratis sta scritto più su gratis però c'è sempre il look sì a certesì perché devi comprare il pass però non è gratis no il pass sono le cose che sopra c'è scritto gratis sì anche se c'è un look devi arrivare a quel livello però sì io sono arrivato a livello dove c'è sì qua ok allora vediamo c'è qualcosa eh ti dà livello clan a livello clan da 100 punti mi tra ieri è livello clan però le altre cose dietro c'è sempre il look e gli altri devi comprare il pass c'è ragione moris 10 euro oppure solo a 20 euro con 20 livelli in più ti parti già da 20 livelli e ti sblocca i primi 20 che c'è un bordello di roba comunque oppure cioè hai già fatto i livelli ti dà 20 livelli io dico extra c'è livello 6 te ne dà 26 giusto arrivi a 26 subito sì e diciamo che lo fanno apposta no per per far comprare il pass però però alla fine guarda che io quando lo facevo ci giocavo sempre alla fine ne compri il primo poi se giochi tutti i giorni se giochi spesso gli altri pasti vengono tutti gratuiti perché vedi che ti danno i soldini no di gioco alla fine della fiera ce la fai a comprarlo senza senza più spedere soldi ne compri uno e basta comunque Marco prima stavo giocando all'improvviso e si è bloccata l'immagine ma si è bloccata proprio la console proprio l'immagine mentre stavo giocando ho pensato che era stato un po' lì internet non lo so ho riapviato sono orientato niente infatti non ti sentivamo più infatti io credevo che eri dentro perché eri dentro nella nella live c'era dentro nella partita il tuo nome però risultava che stavo dentro sì però hai zero soldi zero soldi poi non parlavi infatti Morris mi ha detto guarda che non non c'è ha crashato dai 20 riusciamo a fare Marco Drums che siamo allora Marco Drums che siamo domani spetta GT3 io solo quella va bene va bene va bene perché Marco Drums che siamo domani io te e Sharder a regola perché Kevin non può giocare ha giocato oggi gioca un giorno sì un giorno no col fratello visto che la playstation 5 ragazzi è introvabile allora fanno un giorno ogni giorno suo fratello e e quindi siamo io Morris che vabbè gioca Maurizio vabbè puoi farti una partita anche te Morris comunque andare in macchina non sei capace ti diverti fai una garettina fai tutti i dritti fai tutto vai a tagliare il prato vai a tagliare sì sì io direi di sì cosa dite ragazzi però questa nave ok metti il puntatore hai già messo il puntatore perché non vieni qui amore allora io prendo un'arma nuova poi allora io il punto d'ora perché non lo vedo allora due vanno la barca e due ah siamo in si sta avvicinando voi due è andata alla barca barca solita ok io ci sono eh Pier sono dietro di te io sono caduto in mare no dai come a me prima ti è successo anche a te eh sì è vero è bruttissimo quando cadi in mare dai qui ci sono io mi immagino che mettono l'azione in nuotare dai che figata eh sì si vorrebbe è troppo bello eh sì ma poi tanto non devi fare niente milioni di morti eh cinuti non ti serve a niente eh no perché sei sempre fuori ma beh potrebbero mettere una scaletta sulla sulla nave allora sì ci sta cadi però non muori e poi ci sono tante scalette che puoi risalire eh secondo sì oppure mettere gli squali ti immagini ti salvi ma ti mangiano gli squali ah non avete suonato claude dov'è io non so dov'è qui ci sono i soldi qui ci sono i soldi io li prendo molto volentieri anche se possiamo già prenderlo l'altro io clax non so dove io ho just one out o comunque il tiburon è troppo rico troppo rico i soldi moris eh no 10.000 quando vuoi c'ero 1.600 eh quante volta e ci manca qualcosa quando suoni la nave cinque volte ci dà tanti soldi tante piastre mi piace sta cosa sono altre quattro volte se non va io sto vedendo il palazzone qui davanti raga per adesso è tutto fermo cerchio in riduzione ai 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 va bene ok salutami la mamma esci morto bravo missione però attenzione arriva uno sinistra quando è preoccupato sono stato io ho tirato la granata e me la sono lanciata addosso ah ok l'ultima dovrebbero arrivare vieni oh oh chi è arrivo ah ci siete voi ok quindi stanno arrivando raga eh apri tia questa dovrebbe essere la luce ai 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 c'è qualcuno che sta arrivando amici ma doveva esserci rinforzi mancato poco ho cambiato tv faccio di equipaggiamento sono più coroce io sono l'ultima volta poi addio basta se non viene adesso non viene più no di questa è la definitiva infatti sta arrivando sta arrivando gente io sono morto praticamente non sono morto dall'arco io sono morto vedo un tiratore ignorare ultimo metà ah ho cambiato tv tv è la l'ho visto dai vado io vado io vado io raga ho cambiato vado a fare il kamikaze ma è il tv ehi no dove è il tv è caduto arrivo arrivo stai lì stai lì stai lì arrivo arrivo eh dove sei piano sopra basta che mi tocchi una volta vieni arrivo smettila di fregnare alta un soldato ok grande Pierpaolo hai abbandonato i viticomori no di nuovo oh ma come è possibile c'è un cecchino aspetta che arrivo eh vatti sei ritirato su da solo vai attenzione che bravo attenzione che palle no oh caspita ce la fai vai che arrivo stai lì calmo attenzione che quello sta mirando ti faccio tornare a combattere dov'è no aspetta aspetta che no ma dov'è non lo vedo ma no era nell'angolio che stupido questo qua nell'angolino era l'intesto è uno praticamente davanti alla nave che mira dentro i cacchio che mura ci mirava dentro siete voi due si 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 ritorno ritorno sempre nave raga ma io pensavo di aver curato la cosa a Pierpaolo il diseggiatore no no a a Marco no ero morto ero morto ero morto mortissimo uno morto ok un'altra terra morta è un'altra terra dai se ti ucciti quelli sono morti tutti dai arrivo dentro anch'io e ragazzi no Marco attenzione non andarci ora Marco no ok no Marco sto nell'angolino basta che aspetti 5 secondi dai sto entrando puoi andare puoi andare ok pieno giù no ma che balordo ma che balordo cioè ma come è possibile mi attaccano perché ho due sparate quanti manca due uno eccomi 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 no forse no non so non vedo ok ci sono ricomincio no no sembra questo mi uccide è questo attenzione no Marco scappa e infatti mi rintano ok sono scappato sono scappato i battenzi sono qua sotto sono oh no ma dai ma possibile che c'era uno sulla scala cazzo cazzo ma l'avete visto era sulla scala che balordo ciao vici di twitch dai dai fammi la batteria dai 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 ma scusa a caldera non si può andare che cos'è a caldera l'hanno cacciata è vero non sbaglio facciamo allora mo abbiamo una persona a caso ok questa si fa per forza in quarti ok ok dobbiamo prendere più soldi possibili ok ci sto mi piace la storia dei soldi 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 bella ci sto e li dobbiamo dare poi gli aerei queste cose ah ok ci prende i soldi ah un mallopo surrebird bello 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 mi piace non l'ho mai fatta quindi sperimentiamo dobbiamo consegnare soldi più soldi hai chi fa più soldi vince credo no ciao amici di twitch benvenuti ragazzi allora purtroppo amici la chat è un po' morta perché la mitica Bragali stasera non ha fatto la moderatrice ah 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 andiamo 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 ok questo è il pre partita vero si è il pre partita anche qua ciao amici di twitch benvenuti ragazzi stiamo giocando col mitico morris e il mitico pierpaolo eh raga siamo rimasti in tre eravamo in centomila però è anche un orario bravo che 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 esatto proprio morris ciao ci vediamo domani ciao ciao Maurizio grazie mille ci vediamo domani ti aspetto alle tre ok dopo parliamo anche di OBS se devo chiudere adesso va bene va bene grandissimo ciao 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 Maurizio grazie di tutto grazie di essere stato qui con me e grazie per per tutto il tuo support ok grandissimo grandissimo tu fai ancora questa un'altra mauris hai detto fino a mezzanotte un po' meno io a mezzanotte ok perfetto dimmi tutto praticamente quando mi eri si come si dice si dice il nome del nemico eh ho fatto ho visto in questa modalità ho visto che c'era fico rosso questo succede anche quando lo vivo all'anno io non c'ho per fortuna ma è interessante questo almeno lo vedi anche di più ti dice proprio il nome sopra cos'è che cos'è il volacro? no allora ti fa vedere i nemici attraverso i muri per esempio tu puoi essere dall'altra parte dell'isola e ti fa vedere vedi dobbiamo arrivare a due milioni di dollari ok andiamo contro è facile comunque ok ah sul tetto vedete e poi vedete che ci avete già le armi vostre ah ok io ho preso dei soldi dovete aprire le casse voglio le altre perché mi danno magari c'è un di extra io ho 36 mila raga di più 21 mila io ho 9 mila 50 mila hai visto come si fanno facili? ah ok allora ma vi dico cosa serve si cosa serve questo ci serve il palloncino perché li dobbiamo lasciare così se moriamo non perdiamo i soldi ah il pallone? prendilo prendilo io ce l'ho già grande vai già lasciami i soldi che ne hai vai io direi proprio di sì dai abbiamo un 100 mila vieni vieni 180 mila abbiamo ah guarda il tipo là poi la madonna qua qua lì con te ne ho presi io ho lasciato venite vorrete tutti che si sgompia il pallone vai vai io l'ho messi mancano 10 secondi ti hai messo? per Paolo per Paolo vai vai ti curo io vai grande ah ah 78 mila ok 78 mila bella lì oh oh arrivano ai 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 e non lo so dal palazzone il solito palazzone dove eravamo noi aspetta che mi mettono nell'angolino perché riuscite a 36 mila ne ricchi ah nemici più ricchi ti hanno detto ah ah è per quello ci hanno segnalato eh nemici più ricchi ci hanno segnalato ce lo fai moris? aspetta ah noi siamo i più ricchi eh sì attenzione no 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 attenzione no avevo 108 mila no no non li perdo tutti ah ok non troverai è infatti io penso solo 32 mila ah ok dai bene così ah ti fa perdere un po' di soldi non tutti sì è bello è bella sta cosa allora allora aspetta dove siete eccovi qua qui 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 ah dove eravamo prima dove eravamo prima sempre nel palazzone eh ma no oh ho 118 mila ho ripreso il solo ma bisogna per forza tutte le volte trovare il la mongolfiera lì? eh dobbiamo ritrovare la mongolfiera ah caspita l'armi è proprio prepota è proprio prepota io vado a vedere se c'è un palloncino eh io sto vedendo in giro dappertutto ma qui non vedo non vedo palloncini caspita l'ho trovato che puce venite venite io ho io ho 21 vabbè anche poco e fatti vai sempre al stesso posto no davanti arrivo ok io ho lasciato ho praticamente lasciato tutto io bravo io ho buttato tutto quello che avevo hai già pieno caspita infatti avevo 11.000 ancora io eh il nostro amico quello quello a caso ha eh a 208 ma è diversa o no? 208 hai detto? non è diversa io sento una diversa eh non li mette dentro il palloncino quello lì eh no l'avevo riempito io praticamente metto io ah mi si può ricaricare il palloncino si può? ah ne ho trovato un altro due dai dai poi mettono e poi che c'è qui casqua qua che c'è un buco prendi? vai che lo metto? vai che arriva anche i cosquai quello lì che c'è un sacco di soldi benita ragazzi dai cascavi metti dentro che qua ok ok io metto tutto tutto quello che avevo vado da questa parte eh quello lì non versa vedi che c'ha 200 e passa mila eh madonna la gente online è proprio così ragazzi ma guarda questo eh infatti a 200.000 ma potremmo che c'è forza io sono non ho una distrazione principale 200 e passa mila potevamo essere già già così possiamo così a un milione io ho 84.000 eh c'è c'è un pallone oh se andiamo oh io l'ho già messo nel deposito vieni che è qua il pallone è qua dove 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 arrivo ok l'ho versato grandissimo dove c'è l'elicottero andiamo 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 prendetevi questi coordinate definite quanti soldi ho ne avevo visti tantissimi vai andiamo all'elicottero che dobbiamo depositare andiamo che sta già andando uno io l'ho 59.000 abbiamo attato? uno no però quasi guarda questo quanti soldi no avevo 175 ma che c'è uno nell'angolo capita c'è nel nel corso lì dove no mi sa che non oh grande pier grandissimo l'elicottero si può guarda c'è dentro la sono nella torre di controllo no ma dai no ma dai chelina e siamo avanti eh se però quello lì overwatch lì overgrac ascolta a 200 e passa via perché erano diverse che eravamo già 500 oh è proprio vero che giocare online è incredibile ma dai ma dai no caspita e abbiamo perso un botto di denaro e abbiamo perso anche il team guarda cioè siamo andati indietro siamo andati siamo secondi vabbè dai non c'è problema però caspita eravamo primi è da sotto vedi sotto sotto che c'è team nostro in giallo con la freccina e quello rosso è il team degli altri no io non lo vedo quello rosso la una specie di di freccetta non lo vedi non lascia i soldi vai anch'io la città facciamo del corso c'è un soldato nemico però ragazza io ho il deposito qui se arriva l'elicottero no 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 attenzione dove c'è l'elicottero praticamente è un disastro conviene che tiriamo i palloni come abbiamo fatto prima mi sa moris sì però se ce li uccidiamo lo sai tante persone che ci danno i soldi ecco l'è vero adesso io vengo giù dove siete voi ok eccovi là ok uno ucciso mi sono ripreso i soldi ai 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 c'è sempre uno qui è incredibile incredibile dove siamo noi qua è pieno caspita ho 40.000 allora il nostro team ha versato tutto oscurato lì quello lì con l'altro ragazzo che c'è con noi dai dai eh ma qui caspita ci ammazza c'è uno con l'elicotone no qua è un bordello ragazze cambiamo zona cosa ne dite no meglio di no io continuo a morire perché vanno dentro tutti nel però vedo che qui caspita io ho detto tanto ci sono sono dentro nel perché ho pagato ho chiamato un elicottero attento ma rischi di davanti c'è uno ho ucciso grandissimo e raga depositato a 263 mila granata per dire io sì io sì vai ma si può già ah no deve arrivare l'elicottero aspetta nemico in arrivo nell'area veloci dai 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 nemico che è tutto di tutto eh chier lo fai No, non è 8 Ma hai 127.800 Ma hai 127.800, Pier Eh? Sì, li hai Sì In questa modalità non puoi non avere soldi Magari i soldi si trovavano così Così facilmente Ho 77.000, eh? Hai già chiamato? Bravo, bravissimo Dai, è nostra questa zona Noia Oi oi oi, vado Vali Depositati Attenzione, stanno arrivando Sta arrivando uno No Attenzione, raga L'ho acceso Grande Ma quanti? Sì, ma 361.000 Dai, dai, scaricate Siamo a un milione e tre, siamo a un milione e tre. Grandi ragà, che figata, che figata scusa. Siamo primi di me? Credo di sì, eh. Vuoi vedere? Oh, mi stava tagliando la... No, ma come si fa? Sì, sì, è bella, è bella, è divertente più che altro, sai? Strano che non l'abbiamo fatta l'altra volta. No, tu non ne hai, non ne ha nessuno adesso, solo Oshkwa, lì, quel ragazzo lì, 133.000 che starà aspettando, però... Ma ne ho pure io un pochino. C'è anche tu un pelino? Io adesso sono morto come un stupidotto perché non ho aperto il paracadute. Sì, ma io l'ho aperto. Eh, io no. Mi è andato a pushar. Gli ha preso un milione, tutto l'ho fatto. Ok, praticamente sì. Ok, ho segato uno. Ah, scusami. Chiamate l'elicottero? Stando, è più bene, non abbiamo soldi. L'ho ammazzato, l'ho ammazzato i due. Prenditi i soldi, però. Sì. C'è qualcuno da dietro, raga. Aspetta, mi prendo quello che ci dà un botto di soldi. Dai, 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 dai. Prendi quello che ci dà un botto di soldi. Sono morto. Andateci voi, corretto. Io sono morto. Dieci secondi. Dieci secondi alla fine partita? No. È il primo che arriva a due milioni, vinci. Ah, ok, ok. Dura anche infinito. Madonna, eh sì, se è giocata che nessuno consegna, non finisce più, eh. Infatti, puoi giocare come un multigiocatore se hai con gli amici. Eh sì. Noi, adesso. Guarda questo, guai. Mi dici che problema hai? Per adesso noi. Venite, raga. Sì, eccolo là. Mi vissi dall'alto. Guarda qua, guarda. Attenzione. Allora ci prendiamo via. Attenzione. Ok, uno l'ho matato. Prendete anche voi i soldi. Andate qua. Dove vi pingo? Aspetta, eh. Aspetta, muovelo, posso scrivere. Sai? Vai, vai, vai. 86.000 posso depositare. Prendo in arrivo per il tepposito. Uh, raga. Sento l'elicottero. Vai, apri. Mi ha distrutto un elicottero. L'ho aperto e mi ha distrutto un elicottero. Ok, ragazzi, ho depositato tutto. Mamma mia, raga. Marco, cambia arma. Vai. Ormai. Un pompozzo. Ok. Lo so, ho un mitraglietto e pistola. Perché la pistola è tipo una mitraglietta quando ti metti la canna a mitragliettore. Ormai. Vai con il segnale. Caspita. Ok, ho ripreso i 30.000 cavani. Aspetta che rilancio. Vedo un movimento. Sì, vedo. Il ricottero in arrivo. Ok. Vedo, non butto gli elicotteri che arriva. Sì, è vero. Io, a piedi, non vedo che arriva nessuno qua, eh. Ho preso 100.000. Grande, 100.000. Riesci a depositarli? 200.000. Oh, là, là. Ok, abbiamo un milione, sai, dai. No, ragazzi, attenzione, arriva uno dalla solita torre, eh. Che malordo, che malordo. Comunque siamo avanti di un po', eh. Siamo avanti di un goccio, sì, un goccietto e siamo avanti. C'è un'elicottero che sta massacrando, eh. Attenzione, se l'elicottero... Velo dove c'è? Oh, quant'è c'è l'elicottero? Oh, attenzione, moris dietro. Tu, con l'elicottero, e tu, dici, l'elicottero. È qua sopra da noi. Bravissimo. Grande. Se non sbaglio, ma l'hai ucciso? Hai fatto scoppiare? Oh, questo. No, perché se no... Un botto. Troppi soldi, eh? Madonna. Guarda questo. Perché ci sono le persone, ecco, sti? Ci uniscono altre persone. No. No. Cosa? Sì, è? Sì, è. Sì, è. Sì, è. Oh, oh, quanti elicotteri ci sono? Oh, botte di lag. Oh, scusa. Io non riesco più a trovare i soldi, raga. Questo non ci muore. È perché ormai abbiamo lottato a tutti. Sì, sì. Amico in arrivo nell'area. Perché non trovo soldini? Un po' più mi rifatto lo è già che è venuto giù. Supplementari. Caspita, siamo lì vicini, raga, eh? Abbiamo vinto. Sì. No. Ma per cosa? Per pochissimo. Vabbè, dai, ci sta di brutto. Ci sta di brutto. Dai, dai, ci sta di brutto. È bella, è bella, dai. Allora, ascolta. Visto che è arrivata la mezzanotte, se no poi dopo è tardi, eh? Allora, io saluto tutti. Ho preso un milione solo io. Porca, grandissimo. È vero, è vero. Ho io quello che ho preso di meno. Ma come? Ah no, dai. Mi ha donato, raga. Ok. Allora, io saluto tantissimo Pierpaolo. Ciao, Morris. Ci vediamo lunedì, se puoi. Comunque ci sentiamo, ok? Quindi, Morris, ci vediamo lunedì e domani con tuo opa, Maurizio, se puoi, vuoi giocare anche te, volentieri. Ciao a tutti. Ciao amici miei. Ciao Morris, ciao Maurizio. Ciao, 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 ciao Pierpaolo. Allora, noi amici miei invece ci vediamo domani alle tre con Gran Turismo. Vediamo se c'è il mitico Morris, il papà e il grandissimo Scharder. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti. Buonanotte amici miei. Grazie. 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 Grazie.